Buonasera a tutti, vi saluto dall'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici che ancora una volta ci ospita, ospita noi di Nessuno Tocchi Caino e ospita noi poi anche di tante altre associazioni che sono elencate nella nostra locandina, una locandina con la quale ci siamo dati un tema complicato assai, quello della dimenticanza, la dimenticanza dei principi costituzionali e quindi anche delle tematiche, dei valori costituzionali che sono tanto a cuore a Nessuno Tocchi Caino, che sono tanto a cuore a Movimento Forense, che sono tanto a cuore a tutte le altre associazioni che hanno aderito a questa iniziativa, tra cui anche la Camera Penale di Napoli che ringraziamo. Abbiamo affidato l'introduzione di questi lavori a tre persone alle quali siamo molto legati e alla cui capacità e sensibilità crediamo fermamente. Come avrete notato nella locandina ci siamo volutamente spogliati tutti quanti dei nostri titoli, perché riteniamo che le tematiche che andiamo a trattare non necessitano di titoli. Ed ecco perché poi vedrete, avete notato per chi lo ha fatto già, i tre relatori iniziali che introdurranno appunto i lavori di tutta il nostro incontro per poi passare degli interventi programmati, pur avendo dei titoli importanti, oggi sono presentati con il loro nome e il loro cognome. Perché vogliamo essere qui prima di tutto come individui, come persone, come cittadini e proprio quelle persone, quegli individui e quei cittadini tanto a cuore alle costituzioni delle democrazie liberali, nelle quali altrettanto crediamo fermamente. I lavori nella prima parte saranno moderati dal mio grande amico Vincenzo Improta, con il quale condivido e ho condiviso da ultimo la marcia a Roma di sabato scorso di solidarietà a queste donne e al popolo e ai giovani italiani, iraniani scusatemi, e abbiamo scoperto una fantastica gioventù iraniana lungo le strade di Roma e questa cosa ci ha riempito il cuore di gioia, benché le tematiche della protesta fossero molto, molto difficili da digerire. D'altronde tutti quanti voi avete visto di questi giovanissimi attivisti che vengono giustiziati in Piubblica Piazza appesi per il collo ad una gru edilizia. E questa è una cosa che ovviamente ci mette in grandissima difficoltà. Quindi finisco il mio brevissimo intervento introduttivo con questa brutta immagine e passo la parola al mio amico Vincenzo Improta. Anch'io saluto tutti e ricordo con particolare piacere il fatto che questo incontro sia accompagnato dal contributo di diverse associazioni, tutte diciamo a me care, tutte quante poi capaci di produrre eventi, impegni, cultura e in generale anche poi testimonianze che vanno direttamente ad incidere sul cuore, sullo spirito diciamo non solo dei partecipanti alle diverse associazioni ma proprio in generale della mia città. Ovviamente io che devo dire? Devo dire come prima cosa questa che in certo qual modo siamo rimasti e Alessandro un po' colpiti, quasi tanti avvocati, tante espressioni di questa professione che tutto sommato vive oggi una stagione anche un po' complicata. Però diciamo la cosa che ci ha colpito è che nonostante alla manifestazione di Roma fossero state invitate tutte le associazioni, eventi istituzionali dell'avvocatura, insomma abbiamo notato un'assenza che ci ha addolorato. Diciamo poi ci ha addolorato da una parte, da un'altra parte di Alessandro siamo stati, come dire, anche per loro lì, a rappresentare il fatto che noi siamo sensibili a questo tema, però non crediamo che si possa vivere un tema come questo soltanto in una rappresentazione, come dire, da castello, da impegno verbale, esercizio labiale di testimonianza dell'impegno sui diritti umani. Cioè ci piacerebbe che l'avvocatura italiana in qualche modo fosse più pronta, anche perché affronta una crisi che ormai dura da un bel po' legata a una concezione dell'essere dell'avvocatura, soprattutto diciamo sottoposta a stress, attenzioni che non dipendono da lei ma dipendono dalla realtà difficile che viviamo, però ci piacerebbe insomma che l'avvocatura italiana attraverso i suoi CNF, lo CF, le diverse associazioni, le camere civili e penali aiutasse la società italiana a comprendere bene di che cosa, quali sono i suoi problemi non solo, ma quali sono i problemi che oggi in qualche modo ci evocano questi ragazzi iraniani, le ragazze iraniane, le ragazze che chiedono donna, vita, libertà, insomma è un qualcosa che diciamo fa appello a ognuno di noi, al nostro spirito, alla nostra coscienza, al nostro sentimento morale, che come dicevo prima Enzo Rapone, non è un a priori, la morale non è un a priori dalla quale poi derivano le altre cose, no, è la conseguenza delle scelte che si compiono, dei libri che si leggono, degli impegni che si assumono, di come si costruisce la famiglia, di come si costruiscono le relazioni con gli altri, tutto questo genera la nascita di un sentimento morale, di un senso morale che poi ti porta al momento decisivo a saper scegliere ciò che è giusto e ciò che è ingiusto. Noi oggi parliamo degli iraniani, ma io ho notato una cosa che mi colpisce perché per noi che stiamo vivendo questo tempo è una cosa che possiamo rilevare, ci sono un sacco di popoli in fuga, un sacco di popoli in fuga dal proprio paese, l'Iran, l'Afghanistan, la Siria, la Libia, la Nigeria, la Bielorussia, diciamo Applebaum, questa scrittrice americana che ha scritto un libro mirabile sul comunismo, ha fatto una relazione in un'università americana e ha rappresentato la ragione per la quale poi succede questo, tutti questi popoli in fuga dei cui diritti io vorrei che l'avvocatura si interessasse, questo Applebaum ha fatto questa relazione e ha detto che si è creato un internazionale criminale, stati governati da criminali che si associano, si sostengono reciprocamente e stanno minando, vogliono con le risorse, i soldi dal Nicaragua al Versuele, Cuba, la Russia, Bielorussia, l'Iran, la Cina, vogliono minare il nostro mondo, vogliono minare le nostre istituzioni, poi ci sta pure una nota un po' così, persino in Marocco insomma sembrerebbe che possa affondare il suo coltello nelle debolezze delle istituzioni europee per minarne la credibilità. Quindi mi piacerebbe che l'avvocatura, ecco, cogliesse l'occasione che oggi noi le borgiamo, grazie a Alessandro, sviluppasse una riflessione sui diritti dei popoli in fuga e a Napoli poi in particolare fosse possibile costruire un'occasione di discussione con i rappresentanti di questi popoli che scappano dal loro paese costretti da questi criminali che nel loro paese li sottomettono, li ammazzano per diventare ricchi e per scambiarsi fra di loro un reciproco sostegno per aumentare la loro ricchezza, la loro, quelle delle loro famiglie e dei loro complici. Quindi diciamo questa è una cosa che volevo dire o perché ci direvo particolarmente. Poi per quanto riguarda oggi, oggi abbiamo con noi tre rappresentanti di realtà. Bruno De Maria, a cui mi leggo un rapporto storico che mi piacerebbe, diciamo, se Bruno, lo farò raffare, ci parlasse dei principi costituzionali materiali però, cioè facendo leva sulla distinzione fra costituzione formale e costituzione materiale, noi probabilmente assistiamo, anche per le storie che sono successe negli ultimi trent'anni, ad una costruzione di quella che chiamiamo la costituzione materiale che sposta, diciamo, l'asse già precario della dimensione liberale della nostra costituzione, lo sposta ancora, diciamo, in maniera forte verso qualche orizzonti meno liberale di quello che io auspico perché non ultima la disarticolazione del sistema della divisione dei poteri che ci aveva contraddistinto fino a un certo punto e oggi invece vede un poco questa questione disarticolata, una costruzione materiale che vede i giudici, i pubblici ministeri e poi anche nel loro rapporto con i media, insomma, un potere esorbitante, forse molto ben al di là, ecco, diciamo, di quella che è una rappresentazione classica del sistema dei risultati dei poteri. Poi abbiamo Vincenzo Rapone, altra persona a me cara, che mi piacerebbe se appunto facesse, dicesse le cose, dirà quello che vuole, però, sullo stato del liberalismo, cioè sul come oggi il liberalismo possa offrire una sponda alle persone, ai popoli, perché il liberalismo per me è sinonimo di tolleranza. C'è un libro che ho suggerito a Alessandro che sui cattolici liberali, che sono stati un po' messi da parte un po' nella storia anche recente italiana, perché forse hanno prevalso, ha prevalso un tipo di rappresentazione anche di questo tema politico sviluppato dai cattolici, il tipo più comunitarista, no? Però, devo dire, c'era un'osservazione che mi colpiva molto, che in fondo poi il liberalismo è figlio della razionalità greca e della libertà di coscienza introdotto dai cristiani. Il testo è noto nel quale il momento fondativo della libertà di coscienza, della storia dell'umanità è la lettera che prima il giovane manda a Traiano per rappresentargli il fatto che i cristiani li portava sotto la statua di Traiano e diceva, giura che questo è il tuo Dio e vedrai, avrai salva la vita. E invece questi cristiani dicevano, no, mi dispiace, dottor, mi dispiace, non posso, io tengo a Cristo, fai quello che vuoi, però io non dirò mai che questo è Dio, il mio Dio è Cristo. Quindi mi piacerebbe se lui, appunto, che ne è capace sicuramente, ci dicesse se il liberalismo oggi, diciamo, può trovare una sua formulazione anche, che ovviamente sappiamo essere legata alle vicende nazionali, è anche una formulazione più ampia che raccolga il tema della globalizzazione. Poi c'è l'amica Gazal, ragazza iraniana, studiata in Italia, io che devo dire, io ho un problema personale con gli Aya Tolal, un problema che proprio mi sono, no, antipatici di più, perché io tenevo una casa dove nell'81 c'erano questi ragazzi iraniani che fuggivano dall'Iran, io li ospitavo, poi tenevo gli amici miei a ingegneria che scomparvero perché erano comunisti e gli altri ragazzi iraniani a cui chiesi che fine hanno fatto, no, questi li hanno fatti rientrare, hanno preso, hanno sequestrato le famiglie, li hanno fatti rientrare, li hanno ammazzati, giovani 19, 20 anni ammazzati da questi qua. Quindi diciamo, beh, una roba che per me è insopportabile. Quindi diciamo lei invece è una delle combattenti per questa, per questa, per la libertà. E lei, i giovani iraniani, i ragazzi iraniani, i ragazzi ucraini, diciamo sono i ragazzi, i giovani che noi dobbiamo indicare come esempi, per anche per i nostri figli, perché mettono in campo la loro vita, la loro passione, rischiano, ma non rischiano poco, rischiano tantissimo, quindi non è che rischiano la multa o la patente, no, insomma qua si tratta di fatti veri, di uomini e di donne vere, che pur se giovani già sono esempio anche a noi che siamo più anziani. E quindi diciamo oggi siamo qui e appunto, grazie a Alessandro che ha voluto questa cosa, nel voler ricordare, nel voler ricordare ciò che siamo, nel voler ricordare tutti questi esempi che ci possono portare ad essere migliori di quello che siamo stati finora. E questo è quello che io volevo dire e adesso diciamo diamo la parola a Bruno, seguendo l'ordine a Bruno De Maria, proprio sul dito costituzionale, che ci esporta alle sue idee. Grazie, grazie Vincenzo, grazie anche all'attestato di amicizia che mi hai dato, grazie ad Alessandro e grazie a tutti coloro i quali hanno organizzato questo interessantissimo incontro, complicato nel tema, ma assolutamente attuale. E per aver pensato a me, diciamo che probabilmente non ho poi necessariamente gli strumenti, tanto è vero che in questo percorso che mi avverrò in parte un po' di una traccia scritta che poi possiamo anche pensare di lasciare gli atti. Ringraziamo Radio Radicale che ci aiuta sempre sempre presente e quindi la traccia resterà nella memoria italiana, perché Radio Radicale è la memoria del nostro Paese. Diciamo che anche l'apprezzata e gradita presenza di Radio Radicale mi induce a restare un po' più ingabbiato su un testo, perché ovviamente un conto è parlare a degli amici in una sala, altro conto è essere registrati e mandati in onda per l'intero territorio, cosa molto bella ovviamente. E dunque la dimenticanza, la dimenticanza e i principi costituzionali. È evidente che includere nel tema della dimenticanza e i principi costituzionali significa fare un appello al risveglio della memoria, o meglio ancora forse tentare di risvegliare le consapevolezze che ciascuno dovrebbe avere, dei principi su cui si regge la costruzione della stessa comunità in cui vive. Noi viviamo in una comunità che si è fondata attorno alla condivisione di taluni valori e si è data delle regole attraverso un processo democratico che è tutta costruita attorno alla centralità, come diremo anche meglio, un po' più avanti, della persona e dei suoi diritti. E purtroppo l'attualità di questo appello appare evidente a fronte di un atteggiamento diffuso di tendenziale decostruzione del sistema comunitario, nel quale si tende ad assistere a un abbandono dell'interesse al perseguimento del bene comune e collettivo, il quale cede sempre più il passo in tutte le sedi, tutte, nessuna esclusa, a quello della tutela dell'individuale o al più dell'individuo o al più della stretta prossimità. Immaginate come dire l'idea delle comunità di prossimità, il familiare che spesso rappresenta in qualche modo l'unico vero interesse che talvolta muove le persone. E quindi emerge un atteggiamento individualista nei tempi recenti nel contesto sociale, un atteggiamento che tuttavia contrasta anche proprio con quei principi fondativi del nostro ordine sociale e comunitario, prima ancora che costituzionale, laddove sono proclamati anche dei doveri oltre che diritti e tra questi spicca il dovere di solidarietà. Dovere di solidarietà declinato in vari modi nell'articolo 2 della Costituzione e collocato dunque, proprio perché è presente nell'articolo 2, sullo stesso piano dei diritti che evidentemente non rende compatibile con esso questo atteggiamento di indifferenza rispetto alla sistemica violazione dei fondamentali diritti a cui incestantemente e pubblicamente assistiamo, sia all'interno del nostro più angusto territorio, sia anche osservando i fenomeni a cui facevano riferimento sia a Destandro che a Vincenzo e sui quali poi ci concentriamo oggi. E' un'indifferenza che peraltro appare come una rinuncia a quella che invece dovrebbe essere sempre più una priorità indifferibile, ossia la rivendicazione della necessaria effettività del riconoscimento della garanzia, della inviolabilità di quei medesimi fondamentali diritti e valori supremi su cui si fonda l'intero assetto delle regole di convivenza che ci siamo dati. Quindi, in questa prospettiva, che contributo possiamo dare? Innanzitutto, rispetto alla mia presenza qui, cercare di ricostruire quella base di principi e di valori attorno ai quali ci siamo uniti e che, e faccio qui come dire una deviazione anche dal percorso che mi ero dato, Vincenzo mi riferisco a quello che dicevi, io non ammetto che possa tradursi tutto questo in una logica di accettazione, così come invece sarebbe se cominciassimo a parlare di costituzione materiale. Sappiamo che la costituzione materiale è un concetto che fu elaborato in Italia da mortati ma insomma riprendeva poi qualche studio fatto altrove, soprattutto in Germania, e che in qualche modo serviva a legittimare una deviazione dal percorso costituito, cioè in qualche modo tendeva a riconoscere la forza dell'agire politico anche in contrasto o comunque non in perfetta linea con ciò che la costituzione scritta voleva e forniva degli elementi di legittimazione, degli elementi di legittimazione fondati peraltro su un ragionamento che in qualche modo tendeva a legittimare in genere il potere politico. Questo significa costruire un meccanismo di accettazione, ma questa accettazione non è ammessa, non è ammissibile perché stiamo parlando di ciò che non può essere negoziato. I valori e i principi fondamentali non sono oggetto di negoziazione possibile, sono sottratti alla revisione costituzionale e sono un limite espresso a qualunque scelta legislativa che si dovrà non soltanto conformare ad essi come limite ultimo da non superare, ma anche e soprattutto come spirito da inverare. Questo è ciò che noi ricaviamo anche dall'applicazione nel canone della ragionevolezza, come poi cercheremo di dire con più ordine, un po' più avanti. E i principi e i valori che emergono dalla prima parte della nostra Costituzione e che sono, come sappiamo tutti, stati oggetto di una votazione sulla quale fu una grandissima convergenza, il grande compromesso tra tutte le forze che parteciparono a quel processo, esclusa la forza contro la quale si reagiva all'estrema destra, pur presente ovviamente la forza liberale nel processo costituente, ma la forza liberale appunto. E dicevo, sono principi che non è che la nostra Costituzione ha scoperto, sono principi che la nostra Costituzione ha affermato sulla base di una eredità che ha tratto dalle tradizioni culturali che sono emerse nel pensiero giuridico, politico, filosofico, sociale e economico del mondo occidentale, a partire dall'epoca delle grandi rivoluzioni borghesi, cioè quelle rivoluzioni nelle quali con il sangue si è portata avanti, talvolta vincendola, sia pure poi con le contraddizioni dei cicli storici successivi, ma la lotta di la lotta per i diritti, la lotta per l'affermazione dei diritti come centro di ogni sistema ordinamentale e come nucleo fondativo di qualunque comunità. Il senso stesso del vivere in comunità, secondo quelle tradizioni, viene dalla necessità di proteggere quel nucleo di diritti che non sono più e solo quei diritti che legittimavano gli assolutismi monarchici e quindi questa sovranità assoluta sui beni e sulle persone che veniva riconosciuta al monarca in cambio della protezione della sicurezza individuale e dell'ordine pubblico. Sono diritti che hanno una pervasività molto più forte, sono diritti che riguardano la persona in ogni sua forma, sappiamo che l'articolo 2, non lo scopriamo certo oggi, afferma il principio personalista che significa la persona al centro, ma al contempo il principio pluralista, ossia la persona nella sua dimensione sociale, plurale, comunitaria e in nome di questo intesta a entrambe le manifestazioni dell'essere, la titolarità dei diritti intesi come inviolabili. Ma quali sono questi diritti? Beh, insomma, potremmo metterci a leggere il testo della Costituzione, enunciarli non avrebbe senso. Sappiamo che da anni nella dottrina costituzionalistica italiana, la più avvertita, si dibatte sul fatto che se i diritti costituzionali siano da intendersi solo quelli espressamente numerati nel testo costituzionale, la tesi di pace, ovvero quelli che assumono un'esigenza di protezione, dei quali si riconosce un'esigenza di protezione in ragione di un'emersione nel contesto sociale, nel contesto comunitario, di esigenze e istanze che in passato non erano avvertite, come d'altra parte poi sappiamo e abbiamo assistito nel tempo recente, la crescita dei sistemi di informazione ci ha fatto avvertire la necessità di proteggere la nostra sfera di servatezza, le nuove dimensioni dell'ambiente hanno consentito di collegare alla Costituzione alcune situazioni personali, ma anche la bioetica, i diritti di fine vita o ad esempio il discorso dei diritti dei detenuti. Sono tutti temi che vengono fuori in maniera forte e che probabilmente vanno oltre ciò che nella Costituzione è iscritto, perché? Perché il catalogo dei diritti probabilmente è un catalogo che effettivamente è aperto e deve essere aperto, perché l'apertura del catalogo dei diritti ha consentito peraltro la costruzione di un dialogo tra l'esperienza ordinamentale interna e le carte sovranazionali, penso alla dichiarazione dell'Ono, penso alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, penso alla Carta dei diritti dell'Unione europea e se ne potrebbero fare tanti altri, ad esempio di trattati o di carte che nel tempo sono state adottate sempre a protezione di quel nucleo di diritti che alla fine ruota attorno alla persona, ma la persona è intesa però come portatrice di una dignità, perché è la dignità la matrice fondativa di ogni diritto. La persona è vista come persona che deve necessariamente essere permessa nelle condizioni di preservare la dignità della sua esperienza di vita e dunque i collegamenti tra l'articolo 2 e l'articolo 3, il principio di uguaglianza, non solo diritti ma anche uguale trattamento nella fruizione di questi diritti e nella garanzia della dignità, sia in termini di diritti che ostacolano l'esercizio dei poteri pubblici, immaginiamo i diritti di libertà, sia nei diritti sociali che sull'articolo 3, il principio di uguaglianza, seppure inteso in senso sostanziale, come sappiamo trovano la loro matrice. La dignità peraltro è una tradizione costituzionale comune, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea lo ha chiaramente detto, ha detto benché nel testo della carta, al tempo in cui scriveva la Corte, non ci sia stata un'emersione chiara di questo valore, si tratta di una tradizione costituzionale comune alla quale vanno piegate addirittura le esigenze codificate nei trattati che hanno come matrice le leggi economiche. Quindi quella visione iper-economica che sappiamo aver orientato il sistema europeo e anche la sua giurisprudenza ha trovato proprio nella dignità uno specifico limite, nella dignità della persona. E allora ogni diritto, intanto ha senso e intanto ne possiamo parlare, nella misura in cui è in grado di tradursi in un presidio alla dignità delle persone. La libertà personale è espressamente orientata in questo senso. Se noi leggiamo l'articolo 13 della Costituzione vediamo che è precisato, come sappiamo, come molti sanno, che è ad esempio invietato qualunque forma di violenza morale o fisica nei confronti delle persone che sono sottoposte a dei limiti della libertà personale, il libido di tortura, ma non solo. Che vuol dire? Vuol dire che non bisogna privare della dignità la persona ancorché reclusa ancorché soggetta alla forza del potere coercitivo che scatta all'esito delle garanzie di legge e di giurisdizione che, come sappiamo, presidiano l'applicazione della sanzione penale. Ma è soltanto la violenza morale o fisica che è in grado di violare la dignità di queste persone? O meglio, che vuol dire violenza morale o fisica? È soltanto quell'atteggiamento del detentore della forza che non deve esercitare queste forme, questi atteggiamenti nei confronti del recluso? O si tratta piuttosto di costruire un contesto nel quale, accanto alla funzione costituzionale della pena, qual è, come sappiamo, quella riabilitativa e non già punitiva, venga garantito il rispetto nei limiti ovviamente possibili della persona detenuta, privata di pezzi dei suoi diritti, ma por sempre persona. Ed è la dignità, per esempio, che consente di bilanciare addirittura il diritto alla vita, lo abbiamo visto nella giurisprudenza sul caso Cattato. Il diritto alla vita, che in una certa concezione è un diritto assoluto intangibile e indeclinabile, viene invece relativizzato in ragione della dignità della vita da vivere o della vita vivibile. E non è più un bene intangibile la vita della persona se quella vita ha perso i caratteri della vita degna. Ce l'ha detto la Corte Costituzionale, non è il sermone di un sacerdote laico. È ciò che la nostra Costituzione consente al giudice costituzionale di dire, di superando le inerzie del legislatore che su questi temi, peraltro, nell'ultimo ventennio è totalmente assente. Ed è dignità anche quindi quel gesto di cui ho appreso ieri sera in una notizia trasmessa in televisione di quel ragazzo iraniano che, sottoposto alle misure assurde che si stanno scagliando nei confronti di questi giovani, ha chiesto di non piangere alle sue segui, al suo funerale, ma piuttosto di mettere musica e ballare e quindi affrontare in maniera degna questo momento del suo abbandono, del suo trapasso. Dignità è anche quella che dovrebbe prevalere per esempio nelle scelte, dignità della persona dovrebbe prevalere nelle scelte che riguardano aree del territorio. Immaginiamo la storia della ex silva di Taranto. Le questioni sono compleste, ci sono vari passaggi, ma vi sembra degno barattare la vita del lavoratore con l'esigenza di garantirgli uno stipendio? Io penso proprio di no. Penso che non ci sia proprio margine di trattativa su questi temi. Così come non credo ci sia margine di accettabilità dell'atteggiamento dei poteri pubblici tutti rispetto a drammi come quello della terra dei fuochi, dove c'è gente che muore abbandonata per effetto di un inquinamento probabilmente irrisolvibile, ma che comunque viene dimenticato se non attraverso qualche stanziamento di risorse che serve solo ad arricchire la tasca di qualche impresa e di qualche politico corrotto. Quindi in conclusione, perché non voglio prendere tutto lo spazio. Io credo che il valore della dignità rappresenti come dire un punto di partenza di qualunque ragionamento, del privato, del pubblico, del decisore politico e del giudice. I giudici qualche volta ce lo dicono che è così. Ho fatto qualche esempio della giurisprudenza della Corte, se ne potrebbero fare tanti altri, ma purtroppo restano gli unici che lo fanno nel sistema dei poteri e non sempre lo fanno. Grazie. Ringraziamo Bruno e chiaramente le sue interventi sono sempre stimolanti. Io, voglio dire, colgo questa cosa della dignità, perché poi con Enzo Rapone abbiamo fatto l'altra volta, pure con il papà di Manuela Falombi, abbiamo fatto una cosa, proprio in questo caso Cappato, e non è che c'è emere verso in quell'occasione che chi ci aveva detto che c'era una vita c'era una vita vana, che probabilmente non me, diciamo, giustificava la scelta di poterla chiudere. Non è stata tanta la Corte Costituzionale, ma il mito di Sisypho, no? Il mito di Sisypho che Camus in qualche modo racconta, cioè il giorno sempre uguale, tutti i giorni, a se stesso, tutta sta pietre, quindi diciamo c'è un approccio così che noi quella volta sottolineiamo, mitologico, quindi la vita vana, giustamente, qua si può scegliere di non volerla vivere, no? Però la cosa che dici tu è sempre che la dignità giustamente sia un'espressione di una politica che mette in evidenza l'uguaglianza, però è anche vero che noi oggi per esempio assistiamo a un grande dibattito sul merito, perché la dignità sicuramente appartiene a tutti gli uomini, però è anche vero che nella dialettica fra l'uno e i molti il tema del merito non può essere cancellato, perché si negherebbe alla radice, diciamo, la possibilità anche di costruire percorsi di autonomia e l'autonomia morale, l'autonomia delle persone è un elemento altrettanto importante, diciamo, invece sappiamo che molto spesso il merito, come dire, viene, tra virgolette, represso comunque, se ne dà una rappresentazione a volte anche così grottesca, cioè il merito, diciamo, non bisogna fare il merito individuale, ma il merito collettivo, che è una cosa molto difficile da immaginare che poi possa esistere. Comunque, detto questo, ovviamente il tuo intervento è sempre stimolante. No, dove se mi consenti poi questo discorso del merito, se lo si vuole vedere in un certo modo, il discorso sul merito è un discorso sulla dignità. Certo, perché voglio dire, è la dignità dell'impegno, cioè voglio dire, non è che il merito nasce così... Il rispetto... Qualcuno ha anche, diciamo, una fortuna di nascere più, diciamo, con più vivacità, più fantasie, ma in genere io il merito lo associo all'impegno, insomma, che poi è stata la forma attraverso la quale l'Italia ha avuto, ha fatto dei progressi. Quando questa dimensione dell'impegno personale è stata un po' occultata, diciamo, sono emerse categorie che, insomma, l'hanno diluito in una generica dimensione così comunitaria, forse tutte queste cose importanti che invece nell'Italia sono state fatte sono in un po' bene. Detto questo, adesso ci sta Rapone. Rapone, prima l'ho detto, il liberalismo. Il liberalismo è la misura... il liberalismo e il comunitarismo sono i due parametri, diciamo così, filosofici, storico-politici ai quali noi facciamo riferimento. Ovviamente il rapporto fra l'uno e i molti, cioè è la possibilità di trovare delle costruzioni intellettuali, politiche istituzionali che consentono di garantire che questo equilibrio non sia un equilibrio alterato. C'è un libro che ho letto recentemente pubblicato, scritto da Valditara, no? L'attuale ministro della pubblica istruzione, che rappresentava il dibattito che si era avuto nell'Assemblea Costituente intorno al tema delle libertà. E evocava posizioni espresse dalla Pira, posizioni espresse da Togliatti. Un po' come, diciamo, io le leggevo come impostazioni che poi alla fine consegnavano la dimensione della scelta, al principio di maggioranza l'idea di che cosa fosse la libertà. Insomma, è un po' come se riproducessero quel rischio che invece abbiamo visto ben evidenziare nel libro di Carlo Esposito, la libertà di manifestazione del pensiero. Cioè, la libertà non si funzionalizza alla decisione politica, quindi è qualcosa che attiene anche a una dimensione singolare che va sempre preservato. Perché anche il ragazzo che hai citato tu, il ragazzo iraniano che ha detto, non piangete alla mia morte, ci dà un esempio di come si possa essere, come dire, il massimo dell'individualità, però allo stesso tempo essere da esempio per tutti. Quindi, diciamo, c'è questa esigenza di tenere insieme e di non mai rappresentare, diciamo, otterrare questo equilibrio. Io che sono uno che ci crede nell'individualismo, crede nella possibilità che ogni uomo sia un universo, spero, diciamo, che ci sia sempre la possibilità di che qualcuno ci sorprenda e al quale possiamo dire, riconoscendoglielo, dimostrandoci umani, che è migliore di noi. Quindi, diciamo, da questo punto di vista. Quindi, adesso la parola al caro amico Enzo. Grazie. Grazie tante all'Avvocato Improta, all'Avvocato Gargiulo, al quale mi sento fraternamente vicino e grazie per queste manifestazioni che in qualche modo danno il senso che possa esserci un rapporto tra impegno civico e impegno scientifico. Il tema che mi è stato affidato non è per nulla di semplice definizione e effettivamente noi siamo in un campo abbastanza delicato che è quello dell'epistemologia dei diritti umani e le sole cose che sono state dette qui in pochi minuti attestano che ci sono dietro dei presupposti che da un punto di vista teorico-epistemologico sono giganteschi e che andrebbero specificati uno per uno. Io mi sento molto avvantaggiato dal tema della dimenticanza perché la dimenticanza mi dà, attraverso la nozione di temporalità, una via di accesso abbastanza felice per dimostrare che, tutto sommato, quella dei diritti umani e quella dei diritti costituzionali non è una piega pre-politica. Non siamo in un ambito logico-assiologico, cioè siamo anche in un ambito logico-assiologico che ha la pretesa di imporsi alla sfera politico-statuale ma che questa è solo una delle prospettive possibili perché quella probabilmente più corretta da un punto di vista epistemologico e filosofico è quella che non risponde ad una materialità sostanziale e quindi all'idea di valori che massivamente si impongono alla giustizia per cui poi noi dobbiamo sempre misurare lo scarto con la realtà e quindi abbiamo la Costituzione materiale e la Costituzione formale poi dobbiamo indagare in che senso la Costituzione è un documento che nasce in un tempo storico determinato rispondendo a delle forze materiali e poi viene stesa oltre questi limiti diventando programmaticamente qualcosa che dovrebbe, non si sa bene a che titolo, riguardarci ancora oggi e lo stesso vale per il suo nucleo di valori laddove esso inteso assiologicamente. Quindi noi vediamo che sia per il diritto costituzionale che per i diritti umani noi siamo in una situazione che da un punto di vista materiale è un po' di collasso perché in entrambi i casi abbiamo una certa equiparazione tra generale e universale. I diritti umani diventano i diritti estesi al mondo intero in un processo di globalizzazione. La Costituzione che nasce in un tempo storico definito diventa un parametro, un paradigma per tutto ciò che è accaduto dopo e quindi questo vuol dire che l'impianto valoriale laddove è assunto da un punto di vista sostanziale si rivela inevitabilmente in qualche modo ideologico ed è questo poi che porta anche e questo è un aspetto importante delle democrazie liberali chi può dire umanità, l'impegno per i diritti umani le politiche espansioniste occidentali per i diritti umani. Quindi quando noi siamo in quest'ambito dobbiamo sempre pensare che esiste un diritto e un rovescio del discorso e che l'escluso ideologico di questi concetti è dietro l'angolo. Però dicevo, la dimenticanza ci porta ad un felice abbrivio di questo discorso perché ci porta alla questione del rapporto tra essere e tempo e qui siamo all'istituto degli studi filosofici e io mi pregio anche di essere stato qui borsista per paio anni e di aver eseguito moltissimi seminari e la storicità è un po' il cuore tematico dell'istituto degli studi filosofici e quindi mentre è vero che il liberalismo è figlio del cristianesimo e della razionalità greca però l'impianto logico-asiologico del mondo medievale del mondo premoderno è che la realtà esiste in quanto tale ed ha in sé già tutto ciò che serve alla sua regolazione quindi l'essere dell'ente o c'è o non c'è al contrario quando con Cartesio nasce il soggetto della modernità che è il soggetto dei diritti e che è il soggetto delle nostre democrazie l'essere non è più qualcosa che esiste in sé ma esiste per il soggetto ed esiste nel tempo perché è la democrazia l'immaginazione la funzione principale io immagino che ci sia un oggetto dopodiché questo oggetto potrà venire o non venire e quindi questo oggetto verrà nel tempo ma l'essenziale è che io possa immaginarlo questo chiama in causa il tempo e questo chiama in causa la memoria quindi ciò a cui Sant'Agostino non era riuscito a rispondere che cosa è il tempo in qualche modo noi riusciamo a farlo dando un preciso rapporto tra essere e tempo l'essere si dà nel tempo il valore si dà nel tempo i diritti si danno nella storia i diritti si danno nella politica sono una piega nella politica quindi i diritti umani quando noi diciamo essi toccano un nucleo che è inintangibile e quindi che in qualche modo non può essere assolutamente messo in discussione quello dell'uomo privato di tutte le sue determinazioni concrete noi in effetti stiamo dicendo qualcosa di estremamente contraddittorio perché quando l'uomo arriva al punto di essere toccato nel suo punto essenziale e quindi quando ha perso tutte le sue determinazioni concrete lì il diritto umano non vale più cioè il diritto umano vale solo in una dimensione politica così come il diritto costituzionale vale solo in una dimensione politica e quindi dobbiamo pensarlo come una piega della politica e per questo io dico che il problema dei diritti umani non è tanto un problema assiologico valoriale ma che dobbiamo chiamare in causa invece la distinzione kelseniana tra ordinamento inteso in senso statico-materiale e ordinamento inteso in senso dinamico-formale quando noi pensiamo i diritti umani dal punto di vista statico-materiale facciamo sempre e costantemente operazione ideologica e non riusciamo a tirarci fuori anche dal semplice problema della tolleranza perché la tolleranza come noi la pensiamo è una tolleranza intollerante cioè ogni discorso per la tolleranza ha in sé una metaregola che esclude ogni tipo di intolleranza la libera scelta è qualcosa che in qualche modo non prevede che è qualcosa che ha un esito concreto e quindi non prevede che qualcuno possa in qualche modo sottrarsi quindi la persona che resta in ambito tradizionale la donna che sceglie il velo non lo potrà mai fare liberamente la libertà porta invece ad una certa decontestualizzazione quindi siamo all'interno di una dinamica che in qualche modo o noi pensiamo di avere effettivamente il medio l'universale che media tutte le realtà concrete e quindi di poter maneggiare effettivamente Dio perché noi di questo stiamo parlando alla fine oppure stiamo parlando di una civiltà che in un dato momento assorge a civiltà universale e cerca di far valere come universale i propri valori quindi dal punto di vista di chi vi parla il liberalismo non potrà essere esercitato dal punto di vista assiologico dal punto di vista valereale è una questione che deve rispondere al modo deve rispondere a come noi interpretiamo il valore giuridico e in particolare che ogni nostro atto possa tenere in sé quella che Kelsen chiamava la norma fondamentale cioè che possa tenere in sé la norma che legittima implicitamente l'ordine qualsiasi nostro atto morale o giuridico non deve essere una risposta a un ordine concreto ad un ordine morale a un imperativo dato a un comando a qualcosa che esteriorizza e che materializza un valore ma che deve invece rispondere alla legittimazione di quel stesso comando e quindi risalendo indietro non la Costituzione ma la norma che in qualche modo legittima la Costituzione e che fa sì che in una dinamica politica lo scontro tra interessi non sia un scontro tra interessi chiusi tra interessi di parte perché la mediazione tra interessi chiusi interessi di parte non fa nulla di virtuoso quello che noi abbiamo perso a livello di politica dei diritti umani è dovuto al fatto che noi pensiamo che l'universale sia ormai realizzato e che quindi non ci sia ulteriorità quando non c'è ulteriorità la mediazione tra interessi è una mediazione tra posizioni parziali e non è detto che la mediazione sia migliore di una delle due parti che vince sull'altra dobbiamo includere in ogni nostra scelta la norma fondamentale di ogni ordinamento morale e di ogni ordinamento concreto quindi dobbiamo includere la legittimazione all'interno del nostro agire e all'interno dell'obbedienza al diritto e quindi ci sono due modi diversi di vivere la dimenticanza da un certo punto di vista noi dobbiamo svuotare di sostanza l'ordinamento giuridico e non guardare ai valori materiali e quindi qui io chiamerei in causa l'utilità e il danno della storia per la vita di Nietzsche c'è un eccesso di retorica sui diritti umani c'è un eccesso di celebrazioni c'è un eccesso di autoreferenzialità che deve essere svuotata e che deve essere in qualche modo ricondotta ad un gesto più semplice perché la memoria non è qualcosa che sta in un posto a cui dobbiamo attingere la memoria è ciò che noi viviamo giorno per giorno nell'aprirci al futuro e quindi abbiamo un concetto dinamico materiale di memoria che invece è riattivazione di qualcosa è riattivazione di una storia vivente come diceva Croce la storia è sempre storia presente è sempre storia per la vita è sempre storia per l'ordinamento concreto e questo deve muovere il nostro valore ma non alla ricerca di una garanzia sapendo che l'inclusione di questa universalità di questa norma fondamentale è un decompletamento della nostra totalità per cui io anche l'opposizione individualismo comunitarismo alla fine la soluzione non è sui valori ma è nelle totalità chiuse o nelle totalità che accettano al loro interno un elemento che sia in grado di farlo esplodere come tali e di aprire a quel supplemento d'origine come dicono i filosofi la cui inclusione effettivamente umanizza i soggetti qualsiasi individuo in quanto tale qualsiasi comunità in quanto tale se sono chiuse sono autoreferenziali se negano la propria dipendenza da un elemento in qualche modo legittimante esterno sono delle comunità chiuse autoreferenziali e quanto tali non saranno mai democratiche anche se ispirate a principi liberali qualsiasi individuo e qualsiasi gruppo se accetta che la propria fondazione è estima a se stesso cioè è in parte interna in parte esterna a se stesso se include questo fondamento eccedente rispetto alla propria costituzione può mettersi sulla strada di un'umanizzazione che è un punto d'arrivo il grande errore del costituzionalismo e della politica dei diritti umani è lasciarci pensare che noi già siamo esseri umani in quanto tali il che da un punto di vista fattuale è certamente vero ma è anche vero che l'umanità è un ideale da raggiungere in quanto l'umanità in quanto tale è un significante vuoto cioè mentre gli animali materializzano una perfetta coincidenza tra essere ed esteriorità e quindi non sono mai fuori di se stesso di se stessi e quindi il cavallo sarà sempre equino in qualche modo l'uomo è l'unico essere che non risponde a nessuna essenza giuridica a nessuna essenza formale a nessuna essenza logica può essere qualsiasi cosa e per lui l'umanità è una conquista non un punto di partenza quindi la riappropriazione di questo fondamento ci porta in qualche modo sulla strada di ciò che ha costituito l'umanità in quanto tale che è proprio la coscienza della morte cioè l'uomo storicamente si è separato dall'animalità quando si è definito come mortale e quando ha capito che c'è una memoria di specie cosa che gli animali non hanno i racconti dei primitivi sono e questo lo riferisce anche Freud in Totem e Tabù sono pervasi dall'incognita del primitivo davanti alla morte la sepoltura è data proprio dal fatto che si teme o si pensa che il soggetto possa in qualche modo rivivere perché non essendoci una definizione dell'umano anche la morte è qualcosa è un fenomeno totalmente estraneo alla mentalità primitiva perché i primitivi discendendo totemicamente da enti determinati non si pensavano come uomini si pensavano come figli del cane figli del cavallo la nozione di umanità si conquista attraverso la morte si conquista attraverso la temporalità si conquista attraverso la dimenticanza e l'acquisizione di una memoria positiva quindi in definitiva io non credo che il problema sia di valore in senso logico assiologico ma di un orientamento epistemico che la democrazia sia una questione e che la democrazia liberale sia una questione di orientamento epistemico al sapere e qui mi taccio ovviamente tutto interessante però io diciamo colgo questa cosa del diventare umani umani si diventa e la collego a questa riflessione che un po' riguarda il tema del diritto se il diritto è una tecnica di controllo della paura di viatano il sistema giuridico è un sistema che si contraddistingue perché il suo punto di riferimento è la pena e quindi determina i comportamenti ti induce i comportamenti perché altrimenti ci sta la sanzione oppure se per diventare diciamo anche sotto questo profilo umani non valga il tema della fiducia cioè non valga il tema di una costruzione di diritto che porti a valorizzare il tema della fiducia dell'essere umano della persona nella sua capacità di essere testimone ben oltre se stesso anche per gli altri e quindi diciamo essere capace di costruire relazioni nelle quali si interiorizza l'altro e il rispetto per l'altro senza questa tecnologia del potere che noi in fondo è il diritto e quindi qui vengo ai ragazzi iraniani che in qualche modo ci hanno dato uno degli slogan che io ricorderò per tutta la vita che mi resta come uno dei più belli che abbia mai sentito pronunciare nelle piazze nell'agire politico sui manifesti questo qua donne vita libertà che ci dice ci dice che questi giovani vogliono affermare però fanno questa operazione che io credo che pure dobbiamo tenere presente perché poi noi facciamo molto spesso per noi stessi oggetto di un'autocritica spietata però i ragazzi a teeranni i ragazzi iraniani dichiarano nelle loro interviste che vorrebbero vivere liberi come si viva a New York come si viva a Los Angeles questo mondo occidentale nostro ispirato appunto al tema del liberalismo forse anche al tema della trasgressione insomma qualche cosa diciamo forse sarebbe stato meglio per tutti quanti noi essere più figli dei fiori no for tutto sommato a tante costruzioni che abbiamo fatto ipotecate da dottrine mortifere che ci hanno portato i nostri giovani a scegliere strade sbagliate il terrorismo e le facili però loro vogliono vivere come da noi vogliono vivere come a New York vogliono a Los Angeles dove appunto la costruzione sociale è una costruzione molto orientata dal tema della libertà e quindi a questo punto la nostra amica Gazal ci deve dire lei ci può dire a noi quello che i ragazzi iraniani ci vogliono lanciare come segnale come testimonianza e soprattutto come esempio ripeto esempio da indicare ai nostri figli così se umani così vale la pena di vivere come stanno vivendo e come stanno dimostrando di saper vivere i ragazzi iraniani prego innanzitutto grazie veramente per avermi invitata a questo evento per avermi concesso questa tribuna per essere la voce dei nostri giovani delle nostre donne della nostra popolazione in Iran come ormai tutti sapete oggi tra l'altro è il 16 dicembre quindi esattamente tre mesi dalla morte di Mahzohamini questa ragazza che ormai conosciamo tutti quanti una delle migliaia di vittime di questo regime un regime che ha istituzionalizzato la misoginia sin dalla sua fondazione appunto tramite Khomeini nel 79 e che ha indubbiamente colpendo quelli che sono i diritti delle donne ha minato e viola sistematicamente i diritti di tutta un'intera popolazione e oggi in Iran appunto siamo al si è concluso il terzo mese di proteste proteste che non danno assolutamente segno di voler scemare anzi giorno dopo giorno le ondate aumentano ci sono stati oltre 700 morti fino a fino a oggi di questi circa più di 60 sono donne oltre quasi 70 sono purtroppo minorenni e per minorenni intendo sia bambini di 2 3 anni sia giovanissimi di 16 17 anni e è un dato indubbiamente importante e preoccupante sono i 30 mila prigionieri i 30 mila manifestanti appunto arrestati in questi tre mesi che attualmente si trovano nelle famigerate carceri del nostro paese e che indubbiamente in questo stante stanno subendo delle feroci torture come è consueto appunto per questo regime e tra l'altro questi 30 mila questo dato dei 30 mila prigionieri a me personalmente mi ricorda un capitolo nero purtroppo della nostra storia di una delle tanti dei tanti crimini appunto di cui si è macchiato questo regime quando appunto nell'88 avvenne quello che nella nostra storia definiamo il massacro dell'88 quando appunto in una sola estate 30 mila prigionieri politici appartenenti prevalentemente al gruppo dei mujahid del popolo iraniano che è il principale forse purtroppo unico movimento di opposizione a questo regime dico purtroppo perché se ci fossero state altre realtà veramente organizzate serie questo regime l'avremmo rovesciato molto prima invece questo processo sta iniziando soltanto adesso in una sola estate sono stati uccisi 30 mila prigionieri politici io personalmente in quel genocidio perché di un genocidio si è trattato ho perso mio padre avevo solo 4 anni mio padre è stato fucilato insieme a moltissimi altri mia zia materna è stata impiccata come è avvenuto pochi giorni fa per Mohsen ma per tantissimi altri ragazzi perché in quello stesso giorno in cui è stato ucciso Mohsen sono stati ucciti altri 12 ragazzi con questo voglio dire che in Iran purtroppo abbiamo a che fare con uno dei regimi dittatoriali a mio avviso più feroci veramente della storia dell'umanità un regime che in 43 anni ha ucciso oltre 120 mila dei nostri migliori giovani delle nostre donne veramente della migliore generazione della nostra popolazione in prima linea indubbiamente ci sono sempre stati appunto i giovani e le donne e tant'è vero che anche la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la morte appunto di Masso Amini per mano della cosiddetta polizia morale che ogni giorno veramente già prima di Masso Amini uccideva indiscriminatamente le nostre le nostre donne le donne indubbiamente sono in prima linea in questa rivoluzione perché noi ormai definiamo questa protesta una seconda rivoluzione per il rovesciamento definitivo e radicale di questo regime per l'instaurazione di una repubblica democratica il nostro popolo ha già fatto una rivoluzione nel 79 che è stata letteralmente usurpata appunto da Khomeini con le sue false promesse che poi appunto dopo pochissimi mesi dal suo arrivo in Iran ha istituito appunto questa questa repubblica in cui come dicevo è stata veramente istituzionalizzata la misoginia e moltissimi articoli del codice penale del codice civile della costituzione iraniana declassa la donna come essere umano di secondo livello la donna in realtà è considerata una semplice proprietà appunto dell'uomo o del che sia il marito o che sia il padre o che sia che sia il nonno e la donna è fondamentale un elemento importante per procreare figli figli possibilmente maschi che vengano tirati su secondo quella che è la sharia appunto la mentalità reazionaria l'interpretazione reazionaria dell'islam da parte di questo regime e che appunto nella nella società iraniana purtroppo ha pochissimi pochissimi diritti però ripeto il problema del nostro popolo non è soltanto il problema delle donne di un'intera popolazione veramente i cui diritti vengono violati da oltre 43 anni ed è per questo che oggi appunto ci ritroviamo a oltre tre mesi di proteste e proteste dilagate in tutte le 31 province del paese che ripeto non sono destinate a essere represse nel sangue come era solito per le proteste precedenti in passato vedevamo che l'iran è stato diciamo teatro di moltissime proteste nel corso degli anni la particolarità appunto di queste proteste è che appunto la popolazione veramente non ha più nulla da perdere soprattutto non accetta più questi continui sopprusi da parte di questo regime in prima linea appunto ci sono queste donne sia perché appunto la costituzione iraniana è una costituzione che colpisce in primis le donne quindi sono più motivate indubbiamente a ergersi contro questo dittatore e le donne moltissime donne appunto sono state uccise in questi 43 anni queste oltre 120.000 vittime che noi abbiamo avuto in questi 4 anni tra queste ci sono moltissime donne giovanissime anche donne incinta questo regime veramente non risparmia nessuno e lo stiamo vedendo anche appunto in questi giorni con queste forze repressive militari e paramilitari appunto del corpo delle guardie della rivoluzione dei bassigi che sono appunto quegli agenti che molto spesso in borghese si infiltrano in queste manifestazioni e sparano veramente a distanza ravvicinata ai nostri giovani inoltre c'è da dire che indubbiamente in Iran il ruolo delle donne è stato molto importante nella resistenza nei confronti di questo regime proprio perché l'unico movimento di resistenza che è appunto il movimento dei Mujahidin del popolo iraniano di cui i miei genitori fanno parte e per il quale mio padre è stato ucciso appunto per questa sua appartenenza che rientra a sua parte in quello che è il consiglio della resistenza iraniana è un movimento che è guidato da una donna una donna musulmana la signora Mariam Rajavi che nonostante appunto il velo che porta in testa è da oltre 40 anni che lotta affinché le donne in Iran siano libere di poter scegliere come vestirsi perché il problema del nostro paese non è l'obbligo non è il velo ma è l'obbligo appunto di indossare questo velo le donne devono essere semplicemente libere di poter scegliere se indossarlo o non indossarlo perché comunque un paese esattamente e anche se molto spesso vediamo come queste proteste vengano strumentalizzate minimizzando il tutto soltanto a una questione del velo non è quello assolutamente il problema quello sicuramente è stato l'elemento ripeto la goccia che ha fatto traboccare il vaso ma poi quando si è scoperchiato questo vaso insomma sono usciti fuori oltre 43 anni di genocidi da parte di questo di questo esatto e mi dispiace poi tra l'altro che in questo periodo così delicato invece il regime come ci aspettavamo stia portando avanti proprio una propaganda di disinformazione una campagna proprio di demonizzazione nei confronti della sua opposizione appunto del Consiglio Nazionale andando così a nostro avviso veramente a dare un brutto colpo proprio a quello che è il sacrificio dei nostri giovani perché noi sappiamo per certo che in Iran la maggior parte delle proteste sono condotte e guidate da quelli che sono i cosiddetti nuclei di rivolta che sono gruppi formati da cittadini comuni giovani donne lavoratori studenti giovani e giovanissimi che sono appunto sostenitori di questo movimento e stanno dando proprio un'organizzazione una compattezza a queste manifestazioni che ripeto è proprio per questa sua organizzazione che non va a scemare come è stato appunto negli anni precedenti e nonostante 700 morti nonostante 30.000 prigionieri nonostante le esecuzioni capitali a cui stiamo assistendo in questi giorni continua appunto veramente questa fiamma ad ardere in maniera veramente esemplare e penso che veramente in questo momento storico sia importante sostenere quella che è la resistenza del nostro popolo io approfitto anche del fatto che questo programma viene comunque questo evento viene trasmesso su Radio Radicale per veramente consigliare chiedere di stare attenti un po' a quelle che sono proprio queste politiche di disinformazione da parte del regime purtroppo noi sostenitori comunque del Consiglio Nazionale abbiamo sempre sostenuto il partito radicale lo stesso Pannella è stato un grandissimo sostenitore della signora Maria Amra Javi e della resistenza iraniana e ci dispiace vedere come ultimamente soprattutto dopo una conferenza importante che si è tenuta al Senato a cui è stata invitata appunto come principale relatrice la signora Rajavi si sia scatenata proprio questa guerra politica come la definiamo noi da parte del regime e purtroppo abbiamo visto come io penso in maniera comunque forse inconsapevole alcune persone insomma in queste manifestazioni del partito radicale iraniani che tenevano in mano immagini della signora Rajavi con la testa ringgirata che tra l'altro vanno a ricordare proprio quelli che sono anche le impiccaggioni in Iran e ci dispiace moltissimo di questo speriamo che insomma si tratti veramente di una di una svista perché ripeto il partito radicale è sempre stato a fianco del popolo iraniano e della sua resistenza che ripeto è rappresentato comunque dal consiglio nazionale della resistenza iraniana noi sostenitori di questo movimento abbiamo sempre voluto in realtà avere a fianco a nostro fianco anche altre realtà di opposizione purtroppo così non è stato anche perché avere a che fare con il regime vuol dire avere a che fare veramente con un nemico molto 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 potente e molto molto feroce che grazie anche alla pericolosissima politica di accondiscendenza di questi anni ha ottenuto sempre maggiore forza che ha poi utilizzato sia internamente al paese con la repressione diciamo nei confronti della propria popolazione ma anche di fuori dei confini con quelle che sono le attività maligne anche di esportazione del terrorismo insomma non dimentichiamoci che questo regime attraverso un suo diplomatico a Sadolasa nel 2018 aveva trasportato un esplosivo con un volo di linea da Teheran appunto se non sbaglio a Bruxelles per poi portare questo esplosivo a un summit annuale che si teneva appunto ogni anno a Parigi dell'opposizione iraniana e che fortunatamente è stato comunque sventato come attentato se no io personalmente non sarei stata qui ma come me moltissimi altri anche personaggi e personalità politiche se non sbaglio forse anche non mi ricordo la Zamparutti o Sergio De Lì erano presenti in quel summit per dire che comunque veramente questo è un regime molto pericoloso con il quale bisogna assolutamente interrompere questa politica di accondiscendenza siamo contentissimi che mercoledì scorso appunto sia stato escluso finalmente questo regime dalla commissione sulla condizione delle donne e delle Nazioni Unite questo grazie devo dire anche a una battaglia decennale portata avanti dalla resistenza iraniana e finalmente quest'anno appunto si è deciso giustamente di escludere appunto un regime che ripeto viola sistematicamente quelli che sono i diritti appunto delle delle donne è necessario indubbiamente agire con maggiore fermezza nei confronti di questo regime sono ben accette per carità tutte quelle che sono le parole di condanna nei confronti di questo regime ma veramente riteniamo che alle parole debbano anche seguire delle azioni e approfitto insomma anche di questo spazio che mi è stato dato per sostenere la lotta del mio popolo chiedendo veramente alle istituzioni al governo italiano di condannare questo regime di isolare questo regime innanzitutto chiudendo le ambasciate perché le ambasciate ormai sappiamo le ambasciate purtroppo sappiamo per certo che sono veramente dei centri di spionaggio moltissimi dei nostri giovani in queste manifestazioni vengono controllati dagli agenti di queste di queste ambasciate poi sono anche dei centri da dove poi vengono organizzati questi attentati che non vanno a minare soltanto la sicurezza di noi iraniani esuli dissidenti ma anche della popolazione occidentale italiana o comunque europea quello che sia è necessario poi inserire quello che è il corpo delle guardie della rivoluzione nella lista dei terroristi perché veramente sono loro che stanno uccidendo in maniera indiscriminata i nostri giovani fino adesso ne sono stati uccisi ripeto 700 ne sono arrestati sono stati arrestati oltre 30.000 manifestanti ed è necessario riconoscere quello che è il diritto all'autodifesa dei nostri giovani che cercano veramente alla buona senza armi di combattere contro invece questi agenti che sono armati fino ai denti esattamente e poi sarebbe anche utile veramente istituire dei tribunali internazionali che giudichino i crimini commessi da questo regime i crimini commessi appunto nell'88 nei confronti di questi 30.000 prigionieri politici uccisi appunto in una sola estate i crimini commessi a novembre del 2019 quando in una sola settimana con il blocco totale della copertura internet sono stati uccisi 1500 manifestanti l'abbattimento del volo di linea ucraino per poi arrivare appunto ai crimini di questi tre mesi quindi veramente è necessario isolare totalmente questo regime interrompere qualsiasi forma di rapporto diplomatico perché la storia ha dimostrato veramente che questa politica di accondiscendenza non ha mai portato a nulla se non a rafforzare appunto il regime e chiediamo appunto veramente di sostenere la nostra popolazione cercando di essere la loro voce questo ripeto si può farlo solo se si isola totalmente questo regime e se i funzionari i principali funzionari rappresentanti di questo regime vengono trascinati di fronte a un tribunale internazionale ci tengo appunto anche a ricordare che lo stesso presidente attuale l'attuale presidente Raisi era uno dei membri della cosiddetta commissione di morte che appunto nell'88 dietro a dei processi lampo in cui queste persone non avevano neanche un legale in cui si chiedeva semplicemente se erano disposti a rinnegare la loro lotta e a collaborare con il regime ovviamente tutti quanti rispondevano di no queste persone venivano portate appunto al patibolo quindi io volevo veramente soltanto fare un po' un punto della situazione di quella che è la situazione in Iran e dire che veramente sta avvenendo una seconda rivoluzione affinché questa rivoluzione arrivi al suo obiettivo cioè al rovesciamento di questo regime per l'instaurazione di una repubblica democratica perché poi il nostro popolo anche da quello che dicono gli slogan non hanno assolutamente intenzione di rovesciare questo regime per ritornare come molti vorrebbero ad esempio alla dittatura monarchica precedente che era comunque una forma di dittatura più che feroce la nostra popolazione dopo oltre un secolo di battaglie nei confronti delle dittature vuole appunto l'istituzione di una repubblica democratica in cui la sovranità appunto sia del popolo né del leader supremo come adesso con Khamenei né dello Shah come era in passato ringraziamo tutti i relatori in particolare voglio ringraziare perché l'emozione di sentire una voce che racconta di queste storie è sempre molto forte comunque io adesso ci sarà Alessandro che gestirà il proseguo di questa iniziativa grazie allora non è stato facile ascoltarvi non è stato facile ascoltarvi per la profondità non è stato facile ascoltarvi perché sono state toccate delle tematiche che per una per persone come noi attente sensibili diventa complicato veramente allora io voglio un attimo spezzare no questo incantissimo di dolore e voglio fare un po' di cronaca prima Ghazal ha parlato di una eliminazione importante e cioè quella dell'espulsione dell'Iran in sede ONU dalla commissione donne pensate che bello all'ONU c'è una commissione donne io voglio dirvi una cosa vi faccio un elenco delle degli stati che hanno votato contro Cina Russia Kazakistan Nicaragua Nigeria Oman Zimbabwe e Bolivia questi sono gli stati che hanno avuto il coraggio di votare contro una risoluzione che voglio dire sai quando si suol dire l'assegno firmato in bianco doveva trovare e poi però ce ne sono altri 14 che si sono astenuti ancora peggio e ovviamente sappiamo quali sono sono questo cerchio magico delle grandi autocrazie che ci circondano tra cui si annovera ovviamente il Venezuela eccetera ed è proprio quello di cui parlava Enzo all'inizio cioè di questo legame questi signori di queste autocrazie dittature chiamiamole come vogliamo sono molto bravi a fare rete tra di loro sono bravissimi si aiutano creano una quella che viene erroneamente chiamata controinformazione non è controinformazione perché sono così bravi che creano una vera informazione vera tra virgolette tant'è che oggi le grandi agenzie di servizi segreti delle democrazie occidentali sono chiamate ad occuparsi di questa vera informazione che in rete producono queste autocrazie quindi le grandi agenzie hanno oggi dei rami delle costole che si occupano solo di questo e cioè quello di smontare queste informazioni queste notizie e quindi mentre un tempo il vecchio agente segreto era pagato per nasconderla la verità oggi questi novelli agenti segreti vengono pagati per disvelare la verità e per smontare questa informazione uno degli agenti segreti più importanti al mondo che si occupa solo di questo porta un nome singolare famoso si chiama Fleming di cognome per chi è appassionato come me di letteratura di genere sa bene che cosa ha scritto questo autore un po' di anni fa ebbene questo agente segreto che però segreto non è è un agente dell'MI6 si occupa solo di questo va in giro per il mondo a fare consulenze a fare convegni va a parlare ai parlamenti e dice oggi noi dobbiamo stare attenti perché ci propinano una verità che tale non è e questo è il punto quindi noi stasera nel nostro piccolissimo siamo qua anche per questo per spezzare questa rete di solidarietà che poi invece è la rete di solidarietà che dovremmo sempre continuamente coltivare in ambito occidentale ed è quella rete che poi abbiamo visto che oggi per esempio vede unito il mondo occidentale nell'aggressione che subiscono gli ucraini per esempio ecco lì noi notiamo una reazione forte del mondo occidentale ma di esempi ce ne sono alcuni non tantissimi però quello è l'esempio che dovremmo sempre percorrere cioè il mondo occidentale deve necessariamente unirsi e deve unirsi proprio basandosi su quei valori di cui ci ha parlato prima Bruno che sono i valori delle nostre costituzioni non ce lo dimentichiamo mai quelle costituzioni sono state scritte all'esito di tanto sangue versato non ce lo dimentichiamo mai siamo anche qui stasera in un palazzo i cui esponenti come vedete un palazzo meraviglioso questo era un salone dove si facevano le feste si chiama appunto salone degli specchi ebbene il unabo il fratello del principe Serra di Cassano fu ucciso fu giustiziato perché insieme ad altri si era fatto protagonista promotore di una rivoluzione quella che noi conosciamo come rivoluzione partenovea quella del 1799 quindi questa storia come vedete continua di queste persone che vengono appese per il collo ed è dura è dura perché c'è sempre come ci ricordava Vincenzo c'è sempre questa speranza questa dimenticanza che certe cose possano non accadere più e allora semmai alle volte facciamo finta di non vedere questa è la verità perché poi ricordiamo noi che abitiamo in zona vediamo un portone chiuso da due secoli ed è un portone chiuso quello di questo palazzo per protestare contro l'impiccaggione del fratello del principe di Serra di Cassano quel portone non è stato mai più riaperto ed è una forma di protesta della famiglia però poi intanto ci giriamo vediamo Gasalda Gasalda ha perso il padre 1988 giusto? ma voi immaginate uccidere 30.000 persone in un'estate che cosa significa? 30.000 persone in un'estate io non lo so allora cominciamo con degli interventi brevi massimo 5 minuti degli amici e delle amiche che ci hanno voluto fare come dire rendere veramente ai quali siamo grati perché sono qui qualcuno è venuto da lontano sfidando lo sciopero dei treni Gasal per esempio è una di queste e quindi io comincio sicuramente darò prima di tutto la parola alle donne la prima donna a cui do la parola è una mia carissima amica romana cercherò di non elencare le cariche ma chiamerò le persone per nome e per cognome anche se come avete visto in Locandina ci sono dei simboli ai quali siamo tutti quanti molto legati però oggi siamo qui come persone come individui e come cittadini proprio quelli delle nostre Costituzioni Maria Chiara Ruzza proprio perché giustamente è corretto non indicare le cariche anche perché la mia è terribile però io comunque sono qui e saluto tutti da parte di Movimento Forense questo si può dire quindi sono in rappresentanza di chi rappresenta Movimento Forense ringrazio Alessandro e Manuela per aver organizzato e insomma tutti voi comunque per essere presenti credo che ci sia poco da dire rispetto in realtà a quello che loro hanno già detto e alle dissertazioni che si sono fatte peraltro di alto di alto livello quindi da questo punto di vista credo che poco si possa aggiungere quello che posso dire e prima ne parlavo con Asal mentre insomma cercando un po' di conoscere anche la sua realtà e il suo passato è che probabilmente quello di cui soffriamo noi in questo nel nostro paese ma in Occidente in generale è il fatto di non avere consapevolezza vera di quello che accade lì quindi credo che giustamente Asal forniva una soluzione più politico istituzionale giustissima credo che quello che possiamo fare noi come associazioni e ve lo dico perché il Movimento Forense ad esempio fa e si spende molto anche per ciò che concerne l'alternanza scuola-lavoro è portare il messaggio quindi portare e veicolare un messaggio di consapevolezza e soprattutto di conoscenza di quelle che sono queste realtà a partire dai giovani perché come dice lei in questo momento l'85% dell'Iran insomma sono giovanissimi ok quindi io dico sempre tutto parte dall'educazione quindi quello che si può fare è portare il messaggio raccontare ciò che accade quindi Asal da questo punto di vista è meravigliosa perché insomma è testimonianza come dire fisica di quello che sono le sue origini di quello che accade in quel paese anzi spero magari a Roma di organizzare qualcosa si potrebbe fare nelle scuole quindi ecco io diciamo i miei 5 minuti li sintetizzo perché ho il dono della sintesi diciamo ce lo cargiulo e no come Alessandro che se parla parla 96.000 minuti però va bene non gli vogliamo bene lo stesso quindi ecco io dico questo facciamo facciamo informazione sicuramente noi perché non credo che insomma nessuno di noi abbia le velleità di fare il combattente in Iran ahimè diciamocelo chiaramente quello che possiamo fare è informare quindi informiamo e portiamo più possibile il messaggio a chi magari non ha la possibilità di come dire presenziare a questi consessi piuttosto che di stare a contatto con persone come Asal e con persone insomma come professori e quant'altro che oggi abbiamo avuto l'onore di ascoltare complimenti per i vostri discorsi io nel frattempo in questi casi fingo la tattica opossum e mi fingo morta almeno così non si capisce nulla e va bene detto questo grazie a tutti veramente grazie Ale sempre per la sensibilità che hai rispetto a questi temi perché è importante insomma è giusto che tutti siano resi edotti e siano consapevoli perché la consapevolezza secondo me è la prima cosa nella vita in generale grazie grazie Maria Chiara ora passerei la parola a Maria Elisa Somma ora come vedete il legame che poi dà vita ad eventi del genere nell'ambito di quel valore di cui parlava Bruno prima è che è la dignità ora ci sono chiaramente degli ulteriori valori che non si possono mai 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 calpestare chiaramente la dignità è un valore assolutamente sommo ma un valore che io ritengo sommo altrettanto è quello dell'amicizia noi siamo qui molti molti di noi tutti quanti noi siamo qui perché tra di noi è nata un'amicizia questa è la verità spero che possa nascere anche con Gasal l'ho conosciuta poche ore fa ma in effetti non possiamo vivere senza bellezza la bellezza e l'amicizia necessariamente vanno di pari passo noi siamo qui in nome dell'amicizia della bellezza anche e soprattutto in luoghi dove l'amicizia e la bellezza non può essere declinata liberamente questo è il punto e allora vedo lì un mio grande amico Vincenzo Improta ci passiamo sempre questo testimone continuamente poi ci mettiamo in treno facciamo le cose andiamo ad opera andiamo nelle carceri andiamo a parlare con gli ergastolani ostativi è un'esperienza durissima signori però intanto le esperienze anche con Antonio del Vecchio con Argia sono queste le esperienze intorno alle quali si sedimenta l'amicizia la dignità la bellezza il sentimento non possiamo vivere senza la ricerca continua di queste cose che fanno parte della nostra esistenza prego Marilise grazie Alessandro e grazie a tutti non posso negare che sono particolarmente emozionata oggi perché io in Iran ci sono stata e quindi quando Alessandro mi ha invitato per parlare della mia piccola esperienza in Iran non ho potuto dire di no ma mai avrei detto di no perché ho una carissima amica che è ancora lì e che sento spessissimo soprattutto ieri sera perché Alessandro mi ha girato un video poi ho saputo da chi è stato girato e io immediatamente ho chiamato la mia amica e lei mi ha scritto questo video è una parte di crudeltà di questo regime ogni giorno ci svegliamo con la paura di sentire brutte notizie prima o poi ci avviciniamo alla fine e noi festeggiamo la libertà grazie mille per essere la nostra voce io non comprendevo bene effettivamente quello che stava accadendo sono una donna occidentale ho sempre vissuto nella massima libertà dell'autodeterminazione e dei diritti quando sono arrivata a Teheran non comprendevo l'obbligo del velo ma soprattutto le conseguenze del non portare quel velo la mia amica non ne faccio nome perché c'è una televisione e lei ha paura mi ha detto dimmi tutto ma non dire il mio nome mi regalò due mollettoni così per bloccare il velo e mi comprò delle calze perché si vedevano le caviglie ed era una cosa vietata non disdicevole vietata io sono andata nelle carceri a Teheran e sono andata nelle carceri politiche e là ho fatto un giro che non credevo mi avrebbe scosso in maniera forte perché noi pensiamo sempre alle carceri facciamo esperienze di carceri qui come un qualcosa di hai sbagliato devi scontare la tua pena là non è così là non hai sbagliato nulla se non quella di dire ciò che pensi e dopo che sono stata in giro per queste carceri carceri politiche ho compreso che chi mi stava accompagnando era un uomo oggi anziano ma giovane che ha trascorso venti anni nelle carceri perché da studente libero iraniano ma studente in Svezia quando è tornato a Teheran ha iniziato ad esprimere ciò che aveva imparato cioè ad esprimere se stesso e questo non era consentito per cui in alcune manifestazioni dove era stato insomma dove si era manifestato liberamente era stato lì incarcerato e portato per vent'anni e quindi quando alla fine uscimmo da questo giro delle carceri lui disse io sono Camaini e io ho tutto questo e vi posso dire tutto questo bagaglio di esperienza perché questo della foto sono io e quindi è stato il mio primo impatto veramente forte e piano piano che scendevamo da Teheran perché noi siamo rimasti bloccati un giorno a Teheran allora io le dissi andiamo andiamo a vedere le montagne colorate che sono su perché sono a due ore di macchina voglio vederle e lei mi disse non lo puoi fare perché non è consentito io non comprendevo ancora questo concetto di non consentito e piano piano scendendo verso Shiraz perché lei è di Shiraz ha iniziato un po' ad allargare il suo modo di parlare perché lei mi diceva Maria Elisa cortesemente quando siamo fuori all'esterno fai delle domande normali e io il concetto di normale non riuscivo a comprenderlo perché quello che per me è normale per là è vietato e quando sono arrivata nel deserto del Lut io non ce la facevo più con questo velo perché era fine maggio era un caldo pazzesco non puoi portare il gomito fuori e morivo ho tolto il velo e ho detto tanto qua nessuno mi vede e lei mi ha detto non è vero sono responsabile per te rimetti il velo sono esperienze di vita io le ho vissute 18 giorni e sono andata via e non comprendevo perché lei mi diceva Maria Elisa io di te invidio solo una cosa la libertà lei era libera di poter togliere il velo solo quando atterrava nell'aeroporto di Istanbul desiderava togliere quel velo le ho comprato dei trucchi particolari che lei li metteva ma un po' li nascondeva perché aveva paura e allora quando ho detto io andrò a parlare della mia piccola esperienza e voglio portare la tua voce la mia amica mi ha scritto e mi ha detto sì la mia voce in Italia e questa è la lettera che lei mi ha scritto in nome di Dio arcobaleno sono una donna iraniana sono turista a Teheran la polizia morale mi ha arrestato per portare male il velo mi hanno colpito in testa sono morta ma non sono morta perché il mio nome è codice sono una donna iraniana sono atleta e ho deciso di non portare lo giab obbligatorio ma poi mi hanno fatto dire che il velo è caduto per caso sono una donna iraniana sono avvocatessa mi hanno messo in prigione per difendere le persone innocenti sono una donna iraniana hanno ucciso mio figlio di dieci anni davanti ai miei occhi poi mi hanno minacciato con la vita di mio marito per non dire niente sono una donna iraniana sono morta e sto guardando mia piccola figlia piangendo davanti alla tomba stringendo la terra sono una donna iraniana hanno messo a morte il mio fratello innocente mi hanno arrestato con mia figlia di tre anni mia madre urlava in strada per avere notizie di me ma rimane senza nessuna risposta io sono Masha Gina Nika Sarina Elnath Addis Bavan Roya Nasrin Narges Atena Armita Elman Minu sono una donna iraniana e ho mille nomi io sono una donna iraniana come tante altre diverse da tutte in tutti questi brutti giorni di che cosa posso parlare di bambini uccisi davanti ai nostri occhi ma l'unicef non li vede e non parla di loro perché ha paura che chiudano il loro ufficio in Iran di giovani pieni di vita con tanti sogni ma tutti morti di figli rimasti senza parenti o madre e padri senza figli delle lacrime che non ci lasciano la tristezza che stringe i cuori e la rabbia che ci fa continuare ma devo parlare di diritti naturali che non ci sono la libertà che non c'è la vita che non viviamo e le donne sempre sotto pressione più di tutti gli altri quello che sta succedendo in Iran è una rivoluzione un rinascimento iraniano per avere i diritti naturali per avere giustizia per avere giustizia uguaglianza pace sicurezza e benessere tutto è cominciato da parte delle donne coraggiose e forti con il codice ma sciamini è lo slogan donna vita e libertà non c'è altra via che la vittoria e a tutte le donne iraniane la mia amica dedica queste parole grazie tutto gira come vedete gira intorno alle donne in effetti è molto bello scoprire che in effetti le donne iraniane non sono sole ma sono anche circondate non solo dall'affetto ma anche dall'aiuto dei maschi che mi permetto di dire forse molti di loro per la prima volta si stanno comportando da uomini forse è questo è quello che sta accadendo oggi in iran però comunque è molto piacevole è molto bello una società misogina vede oggi le donne combattere e da fianco a loro ci sono gli uomini evidentemente qualcosa sta cambiando perlomeno c'è speranza che questo possa cambiare la speranza è un concetto al quale siamo molto legati ed è il concetto proprio paolino proprio quella spes contra spem che possa aiutare l'uomo a trasformarsi egli stesso in speranza per poter andare oltre ciò che appare impossibile ed è quello che stanno facendo le donne e gli uomini iraniani in questo momento è un concetto cristiano quello al quale io mi affido ed è un concetto che ha declinato per primo un grande importante cristiano che era San Paolo di Tarso ma credo che lo spes contra spem sia possa essere un concetto assolutamente universale assolutamente ed è quello diciamo che ci porta appunto anche a stare qui stasera a parlare di temi molto dolorosi e ora la parola la passo a Manuela Palombi buonasera a tutti e devo dire dopo tutti questi interventi veramente è difficile e con una grande emozione praticamente essere qui oggi io avendo ascoltato diciamo questi interventi mi ritrovo molto mi ritrovo molto con l'associazione Forti Guerriere di cui faccio parte e di cui porto i saluti del presidente che purtroppo ha avuto un imprevisto al lavoro e quindi chiaramente vi lascia i saluti parto proprio da quello che ha detto il professore De Maria quando parla di consapevolezza parla di dignità e quindi proprio per questo quello che noi riteniamo con l'associazione Forti Guerriere e poi con questo tema proprio di violenza di violenza sulle donne che è un tema chiaramente trasversale quindi non riguarda soltanto chiaramente in questo momento le donne dell'Iran ma riguarda un po' la violenza in generale quando è che si esce appunto dalla violenza quando la donna come diceva il professore De Maria acquisisce quella consapevolezza di voler fuoriuscire appunto dalla violenza quando parla di dignità di dignità quindi riappropriarsi e la dignità anche di una dignità proprio economica anche perché poi quella è la problematica proprio della violenza io come diceva Alessandro diciamo anche con le Forti Guerriere la violenza non è soltanto donna ma la violenza vede anche la partecipazione di tanti uomini come nell'associazione Forti Guerriere noi abbiamo molti uomini che fanno parte dell'associazione tra cui anche Alessandro e proprio con Alessandro abbiamo fatto questo progetto e questo percorso e stiamo portando le Forti Guerriere nelle carceri proprio a parlare delle loro esperienze personali a far capire anche agli uomini quello che loro hanno vissuto e vivono quotidianamente che poi è la cosa più importante io devo dire mi ha molto emozionato questa lettera di questa amica di Mari Lisa perché ho ritrovato veramente tante donne quando vengono allo studio che chiedono aiuto e quindi anche in questo senso veramente c'è una c'è proprio una vicinanza quindi Alessandro io penso che ci dovremmo anche diciamo fare promotori e promotrici di portare anche queste storie alla sanità perché sicuramente le Forti Guerriere che oggi non sono potute venire ma è molto importante anche farle ascoltare queste storie io ho il dono della sintesi come Maria Chiara quindi vi lascio i saluti e vi ringrazio tutto tutto preferibilmente ci si auspica possa ruotare intorno all'amicizia e quella con la donna che da poco si è alzata è un'amicizia che va avanti da circa 40 anni quindi è veramente piacevole condividere con lei questo ultimo passaggio della nostra amicizia non so 40 ma non è qua vent'anni Daniela Farone mentre Daniela si appresta ci sono due donne alle quali io mi sono sempre ispirato sempre continuamente una è una è un personaggio di fantasia che si chiamava Penelope e un altro invece non è un personaggio di fantasia e si chiamava Maria quante Penelope e quante Maria ci sono oggi in Iran a piegare il tempo nel tessere una tela e a vedere un figlio che fa una via crucis quante ce ne stanno prego Daniela buonasera a tutti mi inserisco in questo interessantissimo confronto toccando il tema della violenza contro le donne di cui più volte diciamo su cui ci siamo soffermati più volte nell'ambito di questa serata in particolare ricordo che la violenza contro le donne è stata definita all'articolo 3 della convenzione di Istanbul una grave violazione dei diritti umani ho portato qui tre manifesti da sottoporre alla vostra attenzione io sono vicepresidente del comitato pari opportunità dell'ordine degli avvocati di Napoli questi tre manifesti fanno parte di una campagna di sensibilizzazione che il comitato ha voluto portare avanti in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne la giornata del 25 novembre questi manifesti sono stati scelti e riprodotti da noi attraverso la selezione di alcune fotografie accompagnate da alcune citazioni che hanno rappresentato stimoli di riflessione noi del comitato non abbiamo voluto esercitare la dimenticanza anzi abbiamo tappezzato la piazza coperta del tribunale di Napoli di manifesti che spingano una riflessione non solo gli avvocati ma tutti coloro che in quei giorni transitavano nel tribunale ora vi mostro il primo il primo ha proprio forse allora il primo come potete vedere raffigura donne che per le vie di Teran che mostrano foto di Masha Amini come prima è stato già sottolineato Masha Amini è una giovane 22enne iraniana che è stata prima arrestata dalla polizia morale per avere male indossato il velo e successivamente è morta in carcere per le percosse ricevute dalla polizia morale Sulla sua lapide inciso il tuo nome diventerà la chiave e così è stato perché la chiave della rivolta è stata proprio la morte di Masha Amini è stata la chiave che ha aperto le porte di tutte le case delle 31 province dell'Iran e ha fatto uscire le donne per strada il grido di donne vita libertà per rivendicare la parità di diritti e la tutela dei propri diritti civili ed umani ora anche la voce di un'altra donna in seguito alla morte di Masha Amini si è elevata ed è quella di una iraniana avvocata leggo il nome perché per me è difficile ricordarli Shirin Nebadi premio Nobel 2003 per la pace che ha rivolto un appello all'ONU e proprio l'ONU ha recepito una delle sue richieste proprio come Alessandro in questi giorni precedentemente ha comunicato perché l'ONU ha espulso dalla commissione per lo status delle donne l'Iran questa è una delle commissioni più importanti dell'ONU e manifestare l'espulsione questo paese attesta un coinvolgimento dell'ONU che è l'organismo sceltamente più adatto ad intervenire in quanto nel 2015 ben 193 paesi hanno firmato l'agenda 2030-ONU questa agenda si propone 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile e al punto 5 che è uno dei punti più importanti per lo sviluppo sostenibile è proprio quello della promozione della parità di genere per tutti i paesi firmatari quindi per quanto riguarda la comunità internazionale e il contrasto alla violenza sulle donne e sulle ragazze sia nella vita violenza esercitata sia nella vita privata che in quella pubblica questa agenda è alla base di un programma di una pianificazione per i prossimi 15 anni e coinvolge forse in maniera più incisiva i paesi rispetto alla convenzione di Istanbul che racchiude 45 paesi ma è giuridicamente vincolante soltanto per i 12 paesi firmatari e quindi diciamo un input grazie all'appello grazie alla morte di Mascia Minì passo poi all'altro manifesto volevo proporvi un no però voglio aprirlo perché voglio commentare mentre lo apro brevemente no voglio mostrare questo perché vado veloce vi voglio mostrare un altro tema quello della violenza domestica e voglio attraverso questo manifesto raccontarmi la vita di Donna Ferrato una celebre fotografa americana e dimostrare come i mass media possono grandemente influire sui mutamenti culturali e produrre addirittura input legislativi noi del comitato abbiamo scelto varie foto di Donna Ferrata questa è una delle tante questa fotografa americana per circa 10 anni ha lavorato sui temi della violenza di genere ed ha seguito come reporter gli agenti di polizia al momento dell'arresto anche negli ospedali si è recata ha raccolto le testimonianze ha fotografato donne vittime di abusi e di violenza poi ha racchiuso tutte queste fotografie e il materiale dalle raccolto in un libro Living with Enemy questo libro è stato tradotto in molte lingue ed è stato anche ha venduto più di 40.000 copie in tutto il mondo e successivamente Donna Ferrata è diventato un'attivista dei diritti delle donne con la sua raccolta fotografica si recò da Hillary Clinton durante la presidenza Clinton e sensibilizzandola sul tema e mostrandole i risultati di questa sua inchiesta fotografica che ha fatto il giro del mondo e in seguito alla stimolazione ricevuta Hillary Clinton si è resa promotrice di quello che è la più grande e recente normativa americana sul contrasto della violenza di genere il Violence Against Women Act e quindi con questo manifesto ho voluto soltanto dimostrare e ricordare come quanto la comunicazione non verbale e anche forme e campagne di sensibilizzazione intelligentemente portate avanti possano contribuire a provocare quel mutamento culturale essenziale per raggiungere la parità di genere e il riconoscimento dei diritti umani e politici in tutto il mondo grazie Daniela e come succede di solito l'ultima a parlare come donna perché poi invece passiamo agli interventi maschili è la nostra amica Argia di donato prego Argia buonasera a tutti avevo tante cose da dire però la testimonianza di Asal lo pronuncio bene sorella iraniana nonché la testimonianza che ha portato Mari Lisa mi hanno profondamente commosso non ho potuto trattenere le lacrime anche in questa sala perché le parole si schiantano di fronte la drammaticità di quello che trasmettono le parole di chi sta vivendo questo dramma di dolore che è un incubo che noi noi non possiamo immaginare neanche per quanto l'immaginazione come diceva il carissimo filosofo che ho apprezzato tanto la ringrazio veramente per le parole che ha detto quest'oggi per quanto l'immaginazione appunto ci rende simili agli dei e quindi la nostra capacità di essere divinità proprio per ricollegarmi al discorso del raggiungimento di quell'umanità è resa monca da queste testimonianze io voglio ringraziare Alessandro e Manuela che hanno organizzato questo incontro perché tutti i momenti di confronto e di riflessione sono importanti non solo per gli altri ma principalmente per noi che li viviamo in prima persona e voglio ringraziare la sala perché se oggi dopo questo incontro e lo dico chi mi conosce in questa sala Alessandro Manuela gli altri mi conoscono se lo dico è vero se oggi dopo questo incontro sono un'argia un po' diversa e anche soprattutto grazie a loro che mi hanno naturalmente sollecitato questa emozione forte io ringrazio tutti quelli che fanno opera di sensibilizzazione quindi Daniela grazie per averci mostrato questi manifesti grazie a Manuela io ho solo ringraziamenti da fare il mio intervento non era questo però dopo che vi ho ascoltato sento di ringraziare vi dico anche perché voglio ringraziare Manuela il ringraziamento è una grande espressione della grandezza umana grazie non lo so se sono grande sono piccina molto umana voglio ringraziare Manuela per quello che fa sui territori con l'associazione Forti Guerriere Mari Lisa anche con il suo le sue azioni il suo operato i colleghi che sono qui che a loro modo fanno tanto sui territori ovviamente Alessandro e tutti quelli che sono qui ringrazio perché a volte pensiamo di dare per scontate queste cose noi che viviamo qua noi siamo fortunati a Zal io vengo da una società cioè da una società che è anche società da una famiglia patriarcale mio padre mi ha educato grande uomo però maschilista mi ha educata secondo i principi alle otto di sera metti la tavola aiuta tua madre e io fin da bambina perché devo mettere la tavola perché il tuo compito perché chi lo dice lo dico io ora noi siamo in occidente però siamo in Italia nel sud noi nel sud fino ancora ancora oggi ancora oggi avviene ma fino a qualche anno fa eravamo abbiamo delle aree territoriali dove c'è ancora questa questione culturale della donna perché prima si parlava di violenza di genere e ovviamente la condizione delle donne e ringrazio le sorelle iraniane per quello che stanno facendo perché stanno dimostrando che il femminile contemporaneo c'è stanno riscattando il femminile contemporaneo che ad oggi mi sembra dormiente invece in occidente io lo dico sinceramente e scontiamo un problema di natura culturale donna vita libertà che cos'è secondo voi se non una dea tra le tante campagne che ho portato avanti ci fu anche una campagna hashtag ogni donna ha in sé una dea perché io sono fermamente convinta che dentro ogni donna vi è una dea soltanto per il fatto di poter generare la vita noi siamo come la dea o come il dio ammesso e non concesso se il filosofo me lo concede che vi sia un sesso della divinità non lo sappiamo però ogni donna in sé è una dea e quindi dobbiamo ricordarlo non come principio di superiorità nei confronti dell'uomo questo mai perché la parità di genere sono discorsi giusti ma diciamo in un quadro ideologico politico e che ovviamente la nostra società attraversa ma credo che l'uomo e la donna debbano percorrere insieme la stessa via e la donna il potere diciamo riesce dove l'uomo non riesce cioè portare la luce perché porta la vita e quindi l'uomo va indirizzato in un certo qual senso e affiancato quindi ringrazio ancora una volta per questo bellissimo pomeriggio sono molto emozionata e sicuramente da questo scaturirà qualcosa di qualche elaborato poetico sicuramente uscirà grazie grazie sergia allora sempre perché come vi ho detto sul nostro manifesto dell'evento ci sono dei simboli di alcune associazioni qualcuna alla quale siamo molto legati sentimentalmente come nessuno tocchi caino e movimento forense qualcuna molto importante associazioni che portano avanti i diritti ormai da alcuni decenni e una di queste associazioni è la camera penale e l'unione delle camere penali italiane ora c'è un amico che è qui in sala che ora gli chiedo di raggiungerci che è Raffaele Minieri Raffaele è uno di quegli amici dove io con dei brevissimi messaggi su whatsapp lo coinvolgo e lui è qui come vedete a portarci la sua testimonianza oggi vi dicevo ci siamo spogliati dei titoli ci siamo spogliati dei simboli Raffaele qui è come amico è come individuo è come persona è come cittadino perché questo è il nostro compito oggi prego Raffaele grazie grazie Alessandro grazie dell'invito che è sempre gratuitissimo ringrazio Radio Radicale perché tra le varie cose il la mia il mio amore per il mondo radicale continua a essere vivo negli anni passati a Torra Argentina dove si discuteva tanto della della questione iraniana mi fa molto piacere essere in questa sala perché una delle più belle volte in cui sono stato qui c'era la presentazione del libro Ius di Aldo Schiavone e in quell'occasione si parlava del diritto come forma di manifestazione e come forma d'ordine del reale io credo che tu facevi riferimento alla dignità come elemento come valore noi non dobbiamo mai dimenticare che la dignità è all'articolo 1 della carta di inizia posta come diritto superiore fin anche rispetto alla vita perché la vita è soltanto se c'è dignità noi però scontiamo secondo me in quell'occasione proprio in cui presentavamo veniva presentato Ius di Aldo Schiavone uno dei temi fondamentali era il rischio di interpretare la storia come un corso progressivo e quindi come un costante possibile miglioramento delle condizioni del reale laddove invece la storia dimostra che spesso è possibile avere delle profondissime inversioni quello che ad oggi noi abbiamo e mi ha fatto piacere che vi è stata una testimonianza diretta che lo ha detto chiaramente quello che noi abbiamo costruito come società occidentale ma anche in seno all'ONU è stato frutto di una grandissima ipocrisia e secondo me noi ce lo dobbiamo dire è assolutamente impensabile e lo denunciavamo in pochissimo che l'Iran potesse avere un posto nella commissione per la tutela dei diritti dell'Iran è una cosa assolutamente incompatibile e noi dobbiamo ricordarci che questo è il frutto di un atteggiamento ipocrita del mondo occidental verso un atteggiamento e sono d'accordo quando prima si parlava dell'errore della condiscendenza io che ho una cultura radicale che sicuramente ha avuto grandissima simpatia per il presidente Obama come penso un po' tutti credo che però oggi la storia possa dire che certe scelte in politica estera di Obama sono state l'errore per cui oggi noi siamo qui ed è un errore che non è frutto di Obama in sé in quanto tale ma è frutto di una politica di accondiscendenza e di pensare che sia possibile trattare con persone che non hanno alcun senso di rispetto dei valori fondamentali a cui facevi riferimento tu e questo è il grande errore che noi non dobbiamo più commettere perché a febbraio dell'anno scorso un paese illiberale totalitario guidato da un dittatore sanguinario di cui si sapeva già tutto ha invaso un Stato che con le sue difficoltà democratiche che poi voglio paragonare a quelle difficoltà democratiche italiane perché noi abbiamo accondisceso e abbiamo un partito di sinistra che accondiscende ancora con il Movimento 5 Stelle portatore di tematiche assolutamente analogamente illiberali accondiscendenti nei confronti di regimi totalitari quello cinese e quello iraniano e continuiamo a far finta che questo sia tutto normale e abbiamo avuto io sono un estimatore di Jacques Verge ritengo che il nazismo come diceva lui mi ha convinto su questa cosa sia stata una forma di l'esito finale del colonialismo ok sia il mondo occidentale quel mondo occidentale con il colonialismo necessariamente doveva portare al nazismo come manifestazione di quella mentalità però è anche vero che a un certo punto noi dobbiamo anche immaginare che quando si parla di esportare la democrazia e si è imputato a un certo atteggiamento sicuramente sbagliato io dico da radicale perché in quegli anni che Pannella unico nel mondo occidentale denunciava Tony Blair e George Bush rispetto all'invasione in Iraq basata sul quello che poi diventerà la battaglia per il diritto alla conoscenza io c'ero e quindi non voglio rivendicare il concetto la correttezza di un eventuale concetto di esportare la democrazia però attenzione perché io immagino che in Iran oggi così come in Ucraina oggi l'apporto del mondo occidentale che poggia su idee di libertà e che purtroppo passano per una difesa armata della libertà io credo che oggi senza l'effettivo supporto del mondo occidentale che deve passare prima di tutto per l'isolamento ma non purtroppo dobbiamo dirci che potrebbe non essere sufficiente ma assolutamente passa per l'isolamento e per la scelta di non trattare con queste con questi regimi non trattare vuol dire non averci alcun tipo di rapporto cercare di isolarli nei rapporti commerciali cercare di avere ed è questo il compito cioè l'essere spesso in questa sede è questo uscire di qui con una consapevolezza e cercare di dirlo anche quando la marea montante è diversa perché dobbiamo capire comprendere le ragioni e quindi io quando la Russia ha invaso l'Ucraina e c'era tutto questo tifo per stiamocene tranquilli eccetera ho litigato con cari amici anche a tavola perché non esiste nessun margine di trattativa sulla libertà e ce lo dobbiamo dire con le posizioni reciproche politicamente destra sinistra eccetera ma non si tratta sulla libertà ci sono dei valori fondamentali che il mondo occidentale attraverso il diritto perciò facevo riferimento al bellissimo libro di Aldo Schiavone il mondo occidentale ha costruito e quelli sono un paradigma che noi dobbiamo difendere sempre perché se non difendiamo quei valori ci sono tanti singoli individui tante storie che ci venivano raccontate che soffrono e patiscono perché io rispetto a te purtroppo io sono un ateo iperconvinto ok quindi il mio diciamo limite quando sento parlare di queste cose è così io ritengo che esista ci sia da ateo convinto ritengo la necessità fondamentale della lotta per la difesa della libertà perché qui io sono convinto di avere un'unica possibilità e nel momento in cui in Iran per 50 60 70 anni così come è stato a Cuba ci sono intere vite che finiscono sotto una dittatura è un abominio è un abominio e quindi la lotta passa per noi che siamo più fortunati perché abbiamo vinto una cabala di essere nati nel momento giusto nel posto giusto nella famiglia giusta questa è una cabala noi abbiamo però il dovere di tutelare l'essere umano in quanto tale è bellissima la narrazione sulle donne però io dico che c'è una narrazione che viene prima ancora che è l'essere umano in quanto tale ogni singolo bambino si parlava dei bambini orsini parlava dei bambini in Ucraina che erano felici perché è utile utilizzare quella narrazione lì è utile colpisce bene propagandisticamente raccontiamola anche così ma qui stiamo parlando di ogni singolo essere umano la cui vita va tutelata in quanto vita dignitosa e libera al di fuori di questo secondo me non c'è alcun tipo di ragionamento e quindi mi fa veramente piacere di sentire quello che secondo me era il ragionamento che avrei portato e che sto portando ma è della impossibilità di accondiscendere e della necessità di imputare all'ONU e a un certo modo di intendere la politica certi ambienti culturali un atteggiamento assolutamente incompatibile con gli stessi presupposti che sono fondamento del loro nascere chiudo con questo Popper diceva che noi non dobbiamo tollerare è impossibile che la tolleranza non può essere data dagli intolleranti io dico una cosa ancora diversa non per mettermi oltre Popper sarebbe impossibile però c'è un ragionamento chiunque utilizza la libertà per esprimere un proprio pensiero al dovere di riconoscerla come regola del gioco che viene a monte del presupposta quindi nessuno può pretendere di avere idee illiberali o di trattare con soggetti illiberali perché nel momento in cui esprime una posizione illiberale sta utilizzando una mia regola del gioco la mia regola del gioco che gli consente di dire una cazzata pazzesca e noi questo non lo dobbiamo tollerare e lo dobbiamo fare con la consapevolezza che in questi contesti per essere spesso contra spam di cui Pannella ci riempiva ma ci riempiva in una visione laica era quello di prenderci l'onere di prendere posizioni che erano assolutamente minoritarie quando venne sputato addosso perché i pacifisti a cui lui imputava di essere pacifinti e quello è il problema noi è mancato tantissimo nella cultura occidentale in un certo mondo in un certo ambiente che si è arrogato il diritto di essere primazia culturale lo dico da persona che si riconosce in valori tendenzialmente di sinistra ma di un certo tipo di sinistra quel mondo ha fallito ed è il mondo che più di tutti oggi condiscende nei confronti di soggetti per i quali è normale ritenere che la Cina e l'Iran Beppe Grillo siano soggetti e Conte nella sua manifestazione se questo è il partito democratico se questa è la sinistra italiana è normale che gente che non ha nulla a che vedere con altre tipologie di ambiente ne ritiene di sentirsi molto più garantito da chi assume una posizione a tutela effettiva della libertà io purtroppo devo andare via perché ho il treno però volevo veramente ringraziarvi di cuore per questo spazio e spero sia all'inizio di una collaborazione e soprattutto un'amicizia e di potervi presto invitare e non unire al libero l'evento non è finito anche perché ci sono gli ultimi due interventi molto importanti ai quali tengo moltissimo ora devo spendere qualche minuto innanzitutto per ringraziare Raffaele Raffaele Minieri perché Raffaele tocca un argomento che a me a Vincenzo ad Antonio ci sta molto a cuore quindi ti ringraziamo Raffaele ti ringraziamo ed anzi io su questa scia sulla tua scia che tu hai appena battuto e hai appena segnato io vorrei permettermi di consigliare una lettura ed è un libricino che al quale che ovviamente mi ha suggerito il mio amico Vincenzo Improta scritto da Jean-Louis Arouel e si chiama I diritti dell'uomo contro il popolo che cosa sono? Sono la rappresentazione di un diritto umano dei diritti umani che sono stati declinati addirittura fino ad essere considerati una religione quindi questa tutela così totale di questi diritti umani ci ha fatto completamente perdere la bussola la bussola Raffaele di cui tu parlavi l'abbiamo persa perché certi paesi alcuni paesi non dovevano trovare ingresso all'interno di determinate istituzioni è vero è vero Raffaele hai ragione ma come non è pensabile che in alcuni quartieri periferici di alcune grandi città europee venga in piena consapevolezza delle istituzioni dei luoghi applicata la sharia e parlo delle periferie di Parigi per esempio questo è un fatto gravissimo ed è stato fatto perché si è declinato fino all'ennesima potenza trasformandoli in religione i diritti umani sarebbe impensabile che la legge della la sharia trova applicazione in una città europea invece accade accade quotidianamente fino a spingersi a pratiche abominevoli per una città occidentale che tra l'altro è anche testimone di emancipazione femminile di tutte le cose belle che ci siamo raccontati e beh poi in questi quartieri vedi applicare queste norme che ci fanno rabbrividire fino poi ad arrivare alla decapitazione di professori per strada di fedeli in una chiesa e tutto questo è accaduto in Francia ma accade quotidianamente in molte città europee dove per esempio si assiste ad una migrazione al contrario e cioè quello dello svuotamento delle sinagoge gli ebrei stanno scappando dalle grandi città europee e si stanno riversando in Israele perché hanno paura e questo è appunto il frutto di questa declinazione perversa quindi grazie Raffaele poi ti volevo dire una cosa è un grandissimo onore per un cristiano incontrare un ateo un grandissimo onore veramente e anzi approfondirò ancora di più l'amicizia e il rapporto che ho con te grazie Raffaele Antonio Del Vecchio no io più che un intervento imiterò a qualche dei veri e propri asterischi così per fissare qualche punto un dibattito interessantissimo ci mancherebbe altro ogni spirito libero aderisce e si schiera quando in una tragica competizione c'è un potere costituito che fa olocausto della libertà e della vita umana e dall'altra parte chi invece rivendica l'autodeterminazione e la libertà vuole la democrazia io però penso che ho ascoltato con grande attenzione tutti gli interessi e tutti gli interventi è evidente che noi siamo ad uno snudo della storia nella quale la democrazia e le libertà proprio come organizzazione geopolitica planetaria non possono più coesistere con le autocrazie e con le dittature si faceva riferimento all'ipocrisia dell'ONU e degli organismi internazionali quella è una realpolitik all'interno della quale nel tentativo di preservare un ordine che nella prospettiva delle democrazie occidentali è una pace all'interno dei propri confini o comunque nelle regioni geografiche molto prossime ai propri confini si tenta come dire di bilanciare si fa esercizio di ipocrisia e si riconosce agli autocrati ai dittatori la legittimazione della rappresentanza di un popolo quindi il riconoscimento di fatto di stati che invece non praticano la stessa affermazione dei principi di libertà e di democrazia siamo arrivati a un momento nel quale probabilmente i sommovimenti della storia ci pongono di fronte alla necessità di ripensare nuovi equilibri l'invasione dell'Ucraina che sembra essere come dire uno spaccato di politica arcaica che si incunia nella modernità chi avrebbe potuto pensare che di punto in bianco nel cuore dell'Europa ci poteva essere una guerra che addirittura fosse tale riconosciuta come tale dalla comunità internazionale quindi ben oltre le varie annessioni e le scaramucce belliche che l'avevano preceduto mi riferisco alla crimine e oggi quello che accade in Iran è una opportunità complessiva per l'Occidente di dare a ragione una spallata ad un regime autocratico dittatoriale teocratico che costituisce lo scacchiere antagonista rispetto alle democrazie liberali alle democrazie liberali la caduta come tutti quanti noi auspichiamo del regime di Teheran indebolisce l'internazionale illiberale che è oggi come dire incompatibile con la nostra modernità quali siano le ricette e le modalità per arrivare a questo noi non lo sappiamo perché tutto è in divenire soltanto voglio dire una visione che approssimativa ci può consentire di declinare il verbo della perfezione delle nostre democrazie che possono in qualche modo costituire un modello di riferimento lo sono senz'altro per quanto riguarda l'elaborazione culturale che soggiace alla costruzione dei nostri stati però all'interno delle nostre democrazie si vive una crisi fortissima le istituzioni sovranazionali che dovrebbero costituire i baluardo proprio l'epitome della cultura liberale e democratica lo è sono attraversate scosse da situazioni che ne minano la credibilità e allora tutto è in divenire tutto è come dire un 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 sobollire che ci condurrà verso un ordine geopolitico nuovo e allora quale dovrebbe essere secondo me non una dimenticanza ma una presa di coscienza sapendo bene che questa battaglia non è soltanto una battaglia che si combatte all'interno di stati o di confini distanti da noi ma è una un sommovimento che parte che attraversa anche le nostre società è qualche cosa che ci riguarda molto da vicino e come dire appartiene a quel codice fondante di una nuova democrazia io ho ascoltato per quello che era possibile fare con la distrazione del momento il complicatissimo intervento del del complicatissimo intervento complicatissimo intervento del professore di filosofia però credo veramente che oggi vada ricercata la legittimità fondativa dei nostri atti che diversamente corrono il rischio di apparire la declinazione di stereotipi che però molto spesso potrebbero non essere funzionali dirsi tutti quanti fra gli applausi democratici e liberali quando elementi sintomatici depongono per una sostanziale chiusura delle nostre società non è come dire una ricetta che ci aiuta a confrontarci con questo segmento di modernità e con quello che sta accadendo negli altri paesi dobbiamo un po' dismettere la presunzione di essere l'esempio ripensare noi stessi abbiamo anche noi molta strada da percorrere per la costruzione per l'implementazione di quelle architetture istituzionali che furono pensate dai nostri padri costituzionali dai nostri padri fondatori e coloro i quali dietro vita alla nostra carta costituzionale ma che per tanti aspetti nella costituzione materiale non hanno trovato quella applicazione quell'esercizio e quella vita che tutti quanti noi auspicavamo è dunque un momento di grande transizione quali possono essere gli approvi io ho soltanto un pensiero con il quale mi congedo perché altrimenti che il regime degli Ayatollah come tutti i regimi autocratici dittatoriali questo con l'aggravante di fondare in una particolare visione mistica l'organizzazione della vita degli uomini quindi un regime teocratico io penso che questi regimi abbiano tra virgolette i giorni contati gli anni qualcuno potrebbe dire i secoli ma sono delle istituzioni destinate a collassare perché perché non compatibili con la modernità così come Cartesio l'ha immaginata e così come noi abbiamo tentato di inverarlo noi da un nostro versante occidentale dobbiamo tentare di migliorarci questi regimi cadranno e nella prospettiva della costruzione di un nuovo ordine mondiale io non lo so se possiamo reperire nel nostro armamentario culturale una ricetta già precostituita forse un valore lo possiamo rintracciare che è l'unico elemento di discriminazione rispetto a chi il linguaggio della libertà e della democrazia o come dire non lo vuole assolutamente declinare o lo parla male e che dobbiamo assumere finalmente il principio anche noi anche coloro i quali sono impegnati nella battaglia della quotidiana anche dell'esercizio della professione magistrati avvocati tentare di rendere compatibile il proprio operato con un principio che l'uomo non può essere il mezzo di alcun fine ma è un fine in sé se tutti quanti noi come dire facciamo una battaglia sostenendo il popolo iraniano sostenendo il popolo ucraino sostenendo noi stessi verso un moto di liberazione attraverso l'affermazione di questo principio secondo me l'ordine geopolitico che nascerà sarà migliore di quello che ci lasciamo alle spalle e che inevitabilmente cambierà da qui a qualche tempo grazie allora parlavamo prima di dignità ne abbiamo parlato tanto poi abbiamo parlato di amicizia e poi è importante perché un altro elemento che fa da collante in questa occasione è la stima sono di quei valori che poi in qualche modo ci ricollegano anche al discorso che faceva Vincenzo in Prota quello del merito perché come vedete c'è un filo conduttore che lega gli esseri umani e quelli che credono in determinati valori e soprattutto quelli che possono declinare questi valori con libertà e allora siccome io sono libero oltre ad aver avuto la fortuna di poter organizzare questo evento mi prendo la libertà di affidare le conclusioni di questo evento ad una persona alla quale mi sono legato molto ma che stimo moltissimo e che è Aldo Franceschini colgo l'occasione prima di passare la parola ad Aldo per salutarvi per ringraziarvi però il solito ringraziamento forte fortissimo va a Radio Radicale veramente grazie 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 addirittura mi lasci solo buonasera a tutti caro Alessandro ti dico subito che i miei sentimenti nei tuoi confronti questa serata in queste due ore hanno avuto un andamento ondivago e ti spiego perché dopo aver ascoltato l'introduzione dell'avvocato in prota e i tre interventi mi sono chiesto ma seriamente perché mi avessi invitato a partecipare a questa iniziativa al di là dell'assoluta condivisione e della gioia ecco di essere presente non solo come Aldo Franceschini ma anche in rappresentanza dell'associazione Calamandrei poi ti ho ascoltato parlare di amicizia e ho capito quale fosse diciamo il titolo che potesse in qualche modo legittimare un mio intervento l'amicizia che anche questa sera hai voluto dimostrarmi non solo invitandomi a partecipare ma anche diciamo coram popolo e io non posso che ringraziarti di questo e dire che l'amicizia e la stima sono assolutamente ricambiate poi ho ascoltato gli interventi programmati e lì ho iniziato addirittura a dubitare della tua amicizia nei miei confronti perché sono stati tutti interventi davvero ricchi di riflessioni intelligenti appropriate e anche molto appassionati e quindi dubitavo ho dubitato della tua amicizia perché mi sono chiesto per quale motivo d'amico mi avessi tirato questo questo colpo perché diciamo nell'amicizia dovresti ben sapere quali sono i miei i miei limiti comunque scherzi a parte tu mi hai anche gravato del compito di accomiatarmi da tutti e diciamo di chiudere l'incontro di questa sera io per la verità e in ciò dimostrando evidentemente tutti i miei limiti avevo concentrato la mia riflessione più sulla sulla dimenticanza legata ai principi costituzionali ma è chiaro che una riflessione sia pur breve di questo tipo diciamo non scolorirebbe ma evaporerebbe dopo quello che ho ascoltato questa sera e in particolare consentitemelo dopo la testimonianza di Gazal che credo abbia diciamo sinceramente non solo emozionato ma anche colpito tutti noi ascoltare dalla viva voce di chi ha vissuto quello di cui noi sentiamo solamente parlare è qualcosa che non può lasciare indifferente nessuno e quindi io non voglio diciamo sciupare il senso del mio intervento con delle considerazioni che veramente risulterebbero vacue per quanto io mi sia sforzato di elaborarle mi fa piacere solamente concludere con quello che era stato poi l'abbrivio della mia riflessione quindi vi risparmio tutta la parte successiva e vacua quando Alessandro mi ha parlato di questa sua iniziativa e mi ha indicato il titolo io ho avuto già ma me ne sarei dovuto rendere conto ecco all'epoca ho avuto una perplessità perché era un titolo davvero impegnativo e sono partito da un'operazione molto semplice cioè sono andato a cercare sul vocabolario su tre cani online dimenticanza che cosa significa e penso e così chiudo questo mio breve e imbarazzante intervento credo sia utile leggerlo brevemente perché secondo me poi dà bene il senso dell'importanza dell'iniziativa di Alessandro e dell'avvocato in prota di questa sera leggo definizione tre cani online quindi facilmente accessibile dimenticanza il fatto di dimenticare d'aver dimenticato non in se stesso ma in quanto ha come conseguenza che si ometta o si trascuri di qualche cosa e quindi secondo me la dimenticanza ha in sé una componente di inerzia che le dà poi un significato semanticamente più pregnante e se questa è dimenticanza mi pare fin troppo diciamo banale poter considerare che l'iniziativa di Alessandro e dell'avvocato in prota di questa sera sia qualcosa che sia concettualmente oppositivo alla dimenticanza è una iniziativa è un'azione per evitare che veniamo diciamo fagocitati dalla dimenticanza su temi e su cose così importanti questo è quello che sentivo di dire grazie ancora ad Alessandro all'avvocato in prota per l'iniziativa e mi sento più ricco ragazzi a tutti un abbraccio un abbraccio forte grazie grazie a tutti